Buongiorno a tutti. Diamo inizio ai nostri lavori che sono dedicati alla discussione e alla presentazione di questa ricerca che ha assunto dimensioni, come forse avete visto fuori ci sono un po' di coppie dei tre volumi che presentiamo. La ricerca ha richiesto, per essere rappresentata in tutti i suoi risultati, quasi 1700 pagine, perché il tema è molto complesso. Come sapete ormai tutti gli aspetti della nostra vita sono investiti nel bene o nel male dall'applicazione dell'intelligenza artificiale, che è fondamentale non solo nell'economia, ma in tanti altri campi e settori, compreso quelli che riguardano la sicurezza delle persone e delle nazioni. Come tutti questi fenomeni nuovi presenta straordinarie opportunità e presenta anche rilevanti rischi. Di fronte a novità che presentano grandi opportunità e grandi rischi, lo strumento che di solito si usa per valorizzare e massimizzare le opportunità e mitigare o ridimensionare o addirittura cercare di evitare i rischi sono le regole. La difficoltà, come vi diranno meglio i relatori, è che questa è una realtà dove il progresso tecnologico è impetuoso, ha una velocità assolutamente straordinaria, inedita, mai vista, e le regole del passato riescono poco a padroneggiarla. Gli stessi produttori di regole, che sia il Parlamento o che siano le autorità di regolazione, quella più importante a questo riguardo è rappresentata al mio fianco dal Presidente La Sorella, della Presidente dell'Agicom, dell'Autorità della Garanzia delle Comunicazioni, hanno naturalmente difficoltà a inseguire una realtà tecnologica che cambia così rapidamente e a calibrare le regole necessarie che devono essere tali per l'appunto da mitigare e ridurre i rischi senza castrare, senza impedire che le straordinarie opportunità di queste innovazioni possano produrre i loro effetti, per cui c'è un problema di valutazione, di fine tuning delle regole che è molto molto delicato. Però non è mio compito entrare nel merito, io vorrei innanzitutto dare la parola al prorettore della LUMSA per la ricerca scientifica, che è il Professore Gennaro Iasevoli, per un indirizzo di saluto. Lo ringraziamo molto, ringraziamo molto lui e la LUMSA per l'ospitalità in questa bellissima sala. Innanzitutto grazie, grazie Presidente, grazie a tutti a nome del nostro Rettore che veramente si scusa per non essere qui presente fuori Roma per impegni istituzionali ed era veramente dispiaciuto anche per l'autorevolezza e l'interesse di questo convegno. Ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti che dal mio punto di vista lo rendono particolarmente interessante. Innanzitutto l'autorevolezza dei relatori che si presentano da soli e quindi grazie a voi tutti di aver contribuito a questa iniziativa. certamente il tema perché probabilmente forse è uno di quei temi su cui c'è maggiore attenzione da tutti i punti di vista. Io sono un economista e quindi guardo a questi aspetti prevalentemente sotto la dimensione dell'innovazione. Voi sapete meglio di me che alcune piattaforme di intelligenza artificiale hanno ottenuto un numero di utenti in tempi talmente rapidi. Si cita i cinque giorni della piattaforma più famosa laddove altre realtà ci hanno messo, tanto per citarne una, Spotify, cinque mesi o addirittura anni. Questo ci dà l'idea della velocità dell'innovazione e quando la velocità è così elevata naturalmente pone tutta una serie di incertezze soprattutto sul fronte dell'innovazione e evidentemente le certezze le possiamo trovare solo dal punto di vista del diritto. Il convegno affronta queste tematiche anche alla luce di studi e questo è un fatto decisamente innovativo, molto importante perché ci dà già, come posso dire, alcuni punti fermi e naturalmente ci apre, sono sicuro, una serie di domande che spero rappresenteranno poi il punto di un futuro e prossimo convegno. Quindi nel ringraziarvi mi auguro che ci sia, lo dico soprattutto ai nostri colleghi, ringrazio naturalmente il direttore Giannotti, i colleghi tutti del Dipartimento di cosiddetto Gepli, che ci sia una prossima edizione di questo convegno. Grazie a tutti. Grazie professore. Da lei evocato, do subito la parola al professor Giannotti che rappresenta qui in qualche modo il nostro punto di riferimento, tra l'altro ha coordinato per Astrid una ricerca che è in corso di stampa presso Egea Bocconi che è su piattaforme digitali e sistemi di pagamento e penso che prossimamente avremo modo magari anche qui di presentare questa ricerca che credo nel giro di un mese, un mese e mezzo sarà disponibile in libreria. Prego. Grazie professor Bassanini, grazie presidente. Sono molto contento di portarvi i miei saluti come direttore del Dipartimento su un piano sia personale che istituzionale. È un onore per me accogliere appunto Astrid, con la quale abbiamo organizzato questo evento e tutti gli illustri relatori e i presenti. Questo convegno, quindi grazie per aver accettato l'invito e grazie agli studenti che sono presenti, ormai ci vediamo più di frequente rispetto all'anno scorso visto che quest'anno non siamo in avola insieme. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e diritto. Sapete che le autorità di vigilanza e le autorità indipendenti sono da tempo impegnate su questo fronte e ringrazio il presidente Asorella di essere qui con noi. Rappresentate appunto le autorità di dipendenti ai più alti livelli impegnate su vari fronti, dal detection degli hate speech, alle sandboxes, alla vigilanza algoritmica così come le autorità di vigilanza sono impegnate sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto qui sono rappresentate ai massimi livelli anche la Banca d'Italia, ingresso al dottottoria e la professoressa Medda di Consob, alla ricerca sempre di un delicato equilibrio tra innovazione e salvaguardia dei principi di vigilanza. Mentre venivo qui stamattina immaginando il saluto che vi avrei portato ricordavo che qui accanto a noi c'è il passetto di Borgo il passetto che è un camminamento che unisce la sede vaticana al Cassel Sant'Angelo il passetto è un camminamento, allora ho pensato che il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto è davvero un passaggio, è un cammino perché è un lungo percorso in continuo cambiamento perché cambiano le regole, cambiano gli attori, cambiano i protagonisti, cambia il contesto ma un punto fondamentale è che deve essere un camminamento in sicurezza per questo così nasceva. Allora è chiaro che noi dobbiamo cercare di salvaguardare alcuni principi di fondo a cui le istituzioni e la società si debbano ispirare in questo camminamento e in questo percorso e mi pare che questo sia uno degli obiettivi a cui è giunto il volume i tre volumi che oggi andiamo a presentare con l'occasione intelligenza artificiale e diritto, una rivoluzione curati dai tre relatori, dai tre coordinatori che sono qui con noi il presidente Paino che ringrazio, il professor Donati che ringrazio e il professor Perrucci che ringrazio pubblicati dalla casa editrice Il Molino nel 22 è chiaro che è un cantiere aperto perché uno degli obiettivi che ha raggiunto questo libro è quello di dire che questi cambiamenti devono essere fatti ma nel tutelare comunque i diritti fondamentali nel tutelare comunque i principi di libertà e democrazia della nostra Costituzione allora è un cantiere aperto, basta vedere Astrid quante iniziative svolge sul tema della intelligenza artificiale dei seminari e delle pubblicazioni nel nostro picco anche la LUMSA, il Dipartimento devo dire che sono particolarmente impegnati sul tema dell'intelligenza artificiale ricordo a tutti che abbiamo avuto uno dei corsi dedicati in Big Data ormai dal 2016 nei nostri corsi di studio tra l'altro il professor Perrucci è stato uno dei primi docenti che per tempo ha insegnato in questo corso ma ormai è calato un po' in tutti i nostri corsi di laurea al tema della tecnologia dell'intelligenza artificiale tanti progetti io vedete, credo che oggi la sfida dell'università sia creare dei percorsi verticali e orizzontali perché abbiamo bisogno di competenze certamente specialistiche e verticali ma alcuni grandi temi non possono che essere approcciati in un approccio con una visione transdisciplinare perché quindi dal punto di vista statistico, diritto, finanza, economia, filosofia e via dicendo allora in questa logica è chiaro e vado a concludere che questi temi non si possono affrontare se non con la collaborazione di istituzioni, di operatori e di fondazioni impegnate su questo tema quindi ringrazio doppiamente ancora una volta il presidente Bassanini il professor Bassanini e Astrid per questa iniziativa e con piacere gli lascio la parola ringraziando anche i colleghi della LUNSA che interverranno dopo per il proseguo dei lavori grazie allora grazie al professor Giannotti e entriamo nel merito con tre relazioni introduttive che non a caso sono affidate non a studiosi, scienziati ma ai rappresentanti di tre attori importanti su questo scenario che sono l'autorità delle garanzie e delle comunicazioni quindi l'autorità di vigilanza la Consob e la Banca d'Italia la prima di questa relazione è affidato al presidente della Gcom Giacomo la sorella a cui do subito la parola e ringrazio per la partecipazione un ringraziamento generale perché ci onora spesso della sua partecipazione a seminari di Astrid e quindi di questo gli siamo molto molto grati grazie tante buongiorno a tutti innanzitutto io ringrazio gli organizzatori di questo incontro l'università LUNSA la rivista Astrid per l'università LUNSA in particolare l'amico Mario Midiri che è stato collega in un'altra vita e sostanzialmente con cui è rimasto un rapporto di profonda stima e di profondo affetto il libro che viene presentato sono molto contento di aver accolto questo incarico di presentare questo libro sia per l'autorevolezza dei curatori e di coloro che l'hanno scritto ma anche per l'importanza e la profondità dei temi saluto i curatori e in particolare uno di loro il professor Perrucci che è stato per lunghissimo tempo autorevole dirigente di Agicom e quindi come dire c'è una continuità da questo punto di vista molto intensa il tema del libro è diciamo uno dei temi fondamentali della modernità il rapporto tra diritto e intelligenza artificiale un tema che ovviamente conosce tantissime declinazioni perché le applicazioni dell'intelligenza artificiale come ricordava il professor Bassanini sono infinite e sono voi ragazzi lo sapete forse anche più di noi diciamo sono pervasive sono in tutto il mondo che ci circonda questo è un lavoro molto ampio trasversale di dimensioni notevoli come dimostrano i dieci sottogruppi nel quale è stato suddiviso il gruppo di lavoro che ha condotto la ricerca e ovviamente non c'è spazio anche per fare un quadro di sintesi in questo intervento vorrei fare qualche considerazione di carattere generale ovviamente per concentrarmi poi sulle questioni che attengono più direttamente alle competenze di Agicom Agicom lo dico insomma anche per la platea degli studenti che sono qui è un'autorità indipendente che ha questa caratteristica peculiare che fu un'intuizione molto lungimirante del legislatore del 97 di essere un'autorità convergente che sostanzialmente è chiamata a regolare settori, le reti e i contenuti quindi l'audiovisivo, oggi il digitale e anche un'altra rete importante che sono le poste che diciamo 25 anni fa sembravano mondi completamente lontani e invece oggi sono sempre più mondi che parlano tra loro e sono strettamente interconnessi e quindi questa scelta in qualche misura di individuare un unico soggetto che regola questi settori è una scelta sicuramente vincente io lo sto vedendo anche nel rapporto con altri regolatori di altri paesi che non tutti hanno questa struttura e invece è stata un'intuizione appunto del legislatore del 97 molto utile e preziosa il libro dà conto del fatto che l'ordinamento dell'Unione Europea ha finalmente intrapreso la strada della regolazione dell'intelligenza artificiale presentando appunto nell'aprile 2021 una proposta di regolamento che fa seguito al libro bianco pubblicato nel 2020 la necessità della messa a punto di regole ad hoc in materia come ha ben sottolineato nel suo saggio Filippo Donati si deve alla matura consapevolezza che se da un lato l'intelligenza artificiale si configura come uno strumento imprescindibile per la crescita dall'altro un utilizzo non regolamentato dei processi algoritmici e dei sistemi di intelligenza artificiale può determinare rischi molto seri ed è proprio l'esigenza di conciliare questi due aspetti sostegno alla ricerca sulla intelligenza artificiale per lo sviluppo di applicazioni tecnologiche da un lato e la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dall'altro a rendere particolarmente complicata l'elaborazione di quella che in un altro saggio Adelina De Nolfi ha definito la strategia regolatoria europea in materia il cui ultimo risultato è costituito proprio dalla proposta di regolamento che peraltro adesso deve essere ulteriormente elaborato alla luce degli ultimi sviluppi e quindi come sempre in questo caso tecnologia e regolazione si rincorrono tale proposta rappresenta certamente un importante passo in avanti nell'ottica della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dal momento che prevede tra le altre cose il concetto della trasparenza algoritmica cioè la possibilità di rendere visibili e conoscibili questi algoritmi questo è il primo passo in qualche misura verso la regolazione cioè la possibilità di conoscere gli algoritmi per comprendere tuttavia l'ampiezza di questo fenomeno al di là della regolazione dell'intelligenza artificiale in sé è fondamentale anche secondo l'approccio che viene descritto in uno dei saggi di Laura Ammannati e di Fabiana Di Porto è importante un'analisi che si estenda anche ai servizi che sull'intelligenza artificiale si basano che sono sostanzialmente poi i servizi che sono chiamati a regolare anche le varie autorità di settore infatti buona parte dei servizi della società dell'informazione si pensi ai motori di ricerca, alle più varie piattaforme ai social network erogati nella rete nell'ambito di quell'ecosfera che appunto menziona il presidente Paino nella prefazione al libro si basano proprio su processi algoritmici e quindi la regolazione dei primi, dei servizi si riverbera necessariamente sui secondi cioè sulla regolazione dei processi algoritmici e nell'ambito dell'ecosistema digitale tramite la rete ognuno di noi svolge attività quotidiane legate al lavoro, alla vita personale comunica, si informa, effettua acquisti e così via tutte queste attività sono condotte in misura più o meno rilevante tramite applicazioni e servizi che si basano sull'intelligenza artificiale considerato che molti di tali servizi hanno anche alla base la raccolta di dati e l'analisi degli stessi attraverso processi algoritmici questa raccolta di dati può essere funzionale a consentirci di navigare più velocemente in rete a raggiungere più facilmente destinazioni ma anche a definire progetti commercialmente più appetibili in quanto più in grado di intercettare i nostri gusti questo avviene attraverso processi di profilazione e di targeting che seppure determinano effetti positivi semplificando le modalità di accesso ai vari servizi al contempo presentano rischi potenziali anche molto rilevanti soprattutto se applicati ad attività di cruciale rilievo per il funzionamento dei processi democratici come la pubblicità e la comunicazione politica fenomeni come le echo chambers e le cyber cascades che sono stati studiati soprattutto dagli autori americani penso a Cass Sunstein generati da flussi di notizie e informazioni targettizzate sugli utenti possono determinare evidentemente diciamo è oramai patrimonio comune una radicalizzazione del dibattito e tramite essi rischi per la democrazia alla luce di ciò risulta particolarmente importante regolare la profilazione, il micro targeting i sistemi di raccomandazione i processi algoritmici che vi stanno alla base specie in un'ottica di trasparenza l'Unione Europea tra l'altro con il contributo anche delle autorità indipendenti in particolare di Agcom e della rete dei regolatori europei dell'audiovisivo di Erga sta elaborando proprio un regolamento che riguarda la pubblicità politica che è proprio concentrato su questi temi più in generale riguardo alle applicazioni dell'intelligenza artificiale occorre porre un'attenzione particolare a come le notizie e le informazioni si diffondono sulla rete il tema è quello in realtà diciamo un tema centrale del nostro tempo che è quella della disintermediazione dell'informazione cui si collega una sempre più difficoltosa verifica della veridicità e della fondatezza dei fatti che vengono riportati e fatti circolari sui social media in questa prospettiva una delle questioni essenziali diciamo che non è ovviamente un tema di governo della intelligenza artificiale ma è un tema di sistema è un tema di scelta profondamente politica e quello della salvaguardia della libertà dei media indipendenti in particolare del ruolo dei giornali e dei giornalisti proprio per creare un ecosistema che in qualche modo diciamo consenta soprattutto il diritto come dice l'articolo 3 del nuovo Enfa dell'European Media Freedom Act il diritto del cittadino ad essere informati il tema della veicolazione delle informazioni tramite processi algoritmici riguarda oltre che insomma le questioni che ho trattato finora anche altri fenomeni che devono essere fatti oggetto di interventi regolatori sempre al fine di evitare danni a diritti e libertà fondamentali mi riferisco alla diffusione di contenuti illeciti e alla proliferazione delle fake news e delle strategie di disinformazione che sempre più vengono attuate tramite bot troll e l'utilizzo di account falsi sui social network e che costituiscono un periodo un pericolo molto serio potendo veicolare false rappresentazioni della realtà o radicare opinioni antiscientifiche minando quel nucleo minimo di verità come diceva Hannah Arendt che sostanzialmente costituisce la base per la discussione e anche per il confronto politico tutte queste questioni non possono che in primo luogo risolversi a livello europeo e sicuramente l'Unione Europea anche diciamo nel panorama mondiale è diciamo il soggetto che è più avanti nella regolazione di questi settori in particolare della lotta la disinformazione e della diciamo della preservazione di un diciamo ecosistema digitale corretto mi riferisco innanzitutto allo European Democracy Action Plan e il Media Action Plan che sono diciamo documenti di indirizzo dell'Unione Europea a cui sono seguite innanzitutto l'aggiornamento delle grandi direttive di settore penso per il settore audiovisivo in particolare alla SMAV che diciamo ha inteso per la prima volta fissare un come si dice oggi un level playing field un campo di gioco omogeneo sostanzialmente per i soggetti diciamo per i vecchi soggetti audiovisivi e i nuovi soggetti del digitale e poi questo impegno è stato diciamo portato avanti attraverso una serie di atti che sono soprattutto il Digital Services Act che entrerà in vigore completamente nel 2024 e poi l'European Media Freedom Act che invece è diciamo uno strumento legislativo ancora in corso di discussione ma che dovrebbe vedere la luce prima della fine della legislatura della legislatura europea ovviamente fino ad oggi diciamo il contrasto ai fenomeni della disinformazione è stato effettuato in larga misura mediante forme di autoregolamentazione e di coregolamentazione c'è stato un code of practice on disinformation che è stato diciamo condiviso con le piattaforme e sostanzialmente è stato rafforzato attraverso un nuovo testo che ha diciamo cercato di rimediare ai diciamo ai vuoti che c'erano in precedenza una delle questioni essenziali certamente come dicevo prima è il tema evidentemente diciamo di andare oltre l'autoregolazione e passare almeno a una fase di coregolazione in questo senso il Digital Services Act che diciamo richiama l'autoregolamentazione la coregolamentazione diciamo fa un passo in avanti perché chiama le piattaforme a rispondere ai cosiddetti rischi sistemici cioè dice alle piattaforme che loro stessi devono diciamo mettere in piedi gli strumenti per evitare i rischi sistemici e quindi sostanzialmente in particolare tra questi il rischio le attività di disinformazione e le attività suscettibili di determinare effetti negativi sul dibattito civico e sui processi elettorali quindi diciamo si sta passando attraverso questi strumenti legislativi europei da una fase di autoregolamentazione a una fase di coregolamentazione che inevitabilmente viene coinvolte le piattaforme e che è probabilmente l'unico modo per cercare una regolazione complessiva del sistema oltre al tema della disinformazione vi sono poi altri valori interessi come la dignità umana la tutela dei minori il contrasto i discorsi d'odio su questo diciamo ripeto la direttiva smav che ho citato prima ha fissato appunto la necessità di stabilire nuove regole che omogenizzino le regole che erano state fissate per il settore audiovisivo anche anche per quanto riguarda il settore digitale e da questo punto di vista l'autorità ha elaborato un nuovo regolamento in materia di hate speech che fornisce criteri vincolanti per i fornitori di servizi di media audiovisivi non più solo quelli tradizionali ma anche per le piattaforme anche per i video on demand e per le video sharing platform la nuova direttiva di cui il TUSMA costituisce attuazione ha dettato anche per la prima volta una disciplina specifica che riguarda le video sharing platform appunto le cui logiche di funzionamento sono basate soprattutto su processi algoritmici e abbiamo avviato una consultazione pubblica per l'adozione di un regolamento che consenta di bloccare eventualmente la diffusione di programmi o video generati dagli utenti e comunicazione commerciale veicolate da una video sharing platform per la finalità di tutela dei minori di tutela dei consumatori o di contrasto ai discorsi d'odio e alla discriminazione sono ovviamente una serie di temi delicati rispetto ai quali come dire le autorità stanno in qualche modo cercando di viaggiare a vista cercando di intercettare anche l'evoluzione di questi fenomeni che ovviamente corrono molto rapidamente se mi è consentita una digressione rispetto al tema dell'intelligenza artificiale in senso stretto diciamo rimanendo in questo tema invece del rapporto tra informazione e mondo digitale vorrei accennare a un'altra questione molto importante che abbiamo trattato come autorità che è quello che è quella del bilanciamento tra i ricavi economici delle piattaforme e i ricavi economici degli autori e delle testate e degli editori sostanzialmente cioè il tema è questo le piattaforme utilizzano ovviamente i prodotti editoriali li mettono in rete ne traggono un vantaggio naturalmente anche gli editori diciamo trovano un vantaggio dal fatto che questi contenuti sono diffusi sulle piattaforme quindi sicuramente un vantaggio reciproco il problema è trovare il metodo per ripartire diciamo i ricavi da questa attività e allora il legislatore italiano attuando la legislazione europea ha dato proprio all'agicom il compito di individuare un regolamento per ripartire questi ricavi diciamo in modo in modo quanto più possibile oggettivo dando dei parametri perché le parti possano negoziare quindi da un lato la direttiva ha fissato il principio che questi ricavi devono essere ripartiti dall'altro è stata affidata all'autorità in particolare in Italia il metodo per ripartirli e poi eventualmente anche la risoluzione di eventuali controversie noi abbiamo fatto questa regolazione ed è una regolazione diciamo abbastanza innovativa che speriamo possa essere come dire un punto di riferimento ovviamente anche in sede europea e siamo in attesa trepidante che sostanzialmente le piattaforme e gli editori trovino evidentemente un accordo sulla base dei parametri che abbiamo fissato ovviamente ove non lo trovassimo saremo pronti a intervenire per diciamo fissare direttamente questa questa ripartizione ma è un caso molto importante diciamo nel contesto generale c'entra poco con l'intelligenza artificiale ma nel contesto generale perché è un caso di bilanciamento sostanzialmente tra diciamo le ragioni degli editori e le ragioni delle piattaforme un altro ambito di centrale rilievo per le logiche di funzionamento dell'ecosistema digitale su cui mi vorrei soffermare diciamo i temi sono tanti ma ovviamente bisogna concentrare e sintetizzare e quello ne accenno conclusivamente è quello della rilevazione degli indici di ascolto è un tema apparentemente diciamo marginale ma in realtà è un tema centrale perché gli indici di ascolto la rilevazione dell'audience serve sostanzialmente a misurare l'ascolto e quindi a determinare la misura della pubblicità la misura della pubblicità è quello che sostanzialmente poi fa andare avanti il traffico in rete perché il traffico in rete viene remunerato dalla pubblicità che c'è in rete allora il tema è misurare questi indici di ascolto per la televisione si è usato tradizionalmente il metodo campionario c'erano diciamo un panel si diceva una volta di soggetti che vedevano la televisione che diciamo i cui gusti le cui scelte venivano monitorate e diventavano le scelte di tutti i soggetti adesso come voi ragazzi sapete molto meglio di me e come io vedo quotidianamente i miei figli adesso diciamo la fruizione della televisione non è più quella tradizionale ma è una fruizione cross-mediale che sostanzialmente si fa su tanti device la gente vede la televisione i tablet i computer portatili eccetera quindi il tema è come rilevare questo traffico che non è più il traffico voglio dire delle televisioni tradizionali ma ovviamente anche di Netflix dei video on demand di YouTube e anche poi in prospettiva il traffico in genere il traffico delle piattaforme finora le piattaforme sostanzialmente hanno certificato loro stesse i dati ovviamente come dire è un po' come la famosa diciamo metafora dell'oste è come andare a chiedere se il vino è buono all'oste stesso il tema è trovare un meccanismo oggettivo di certificazione e questo meccanismo oggettivo diciamo tecnologicamente c'è perché diciamo c'è la possibilità di introdurre nei vari diciamo nelle varie trasmissioni dei marcatori che sostanzialmente consentono immediatamente non in modo campionario ma questa volta in modo certificato sui dati di verificare l'audience ecco questo è un grande tema e diciamo l'autorità che ho l'onore di presiedere ha diciamo per la prima volta fissato per esempio per una piattaforma importante che molti di voi come dire fruiscono quotidianamente che è quella di Dazon per i diritti del calcio nel fissare anche tutta una serie di regole importanti anche questa del mondo convergente che riguardano la qualità delle trasmissioni la possibilità di chiedere risarcimento la famosa rotellina che girava eccetera ma ha fissato anche questa della rilevazione degli audience imponendo sostanzialmente a Dazon l'adozione di un modello misurabile che è un modello fondato sostanzialmente sulla total audience di Auditel che oggi in Italia è quello che fa questa misurazione che è un G che si chiama Joint Industry Commetti praticamente un soggetto composto da tutti gli operatori del settore che fa una misurazione in qualche modo oggettiva verificabile e misurabile questa misurazione che abbiamo imposto a Dazon è naturalmente un parametro che poi verrà esteso a tutte le altre diciamo piattaforme di trasmissione di video on demand e tutte le altre trasmissioni video ed è un po' la tendenza che diciamo vale anche per gli altri settori per esempio il nuovo European Media Freedom Act fissa proprio il principio che occorre individuare sistemi di misurazione dell'audience che siano oggettivi e verificabili quindi sostanzialmente anche in continuità con la legislazione italiana che da questo punto di vista è sicuramente avanzata quindi insomma questo è un settore molto importante perché è un po' il famoso tema di follow the money cioè sostanzialmente dove si ripartiscono dove e come si ripartiscono le risorse che sostanzialmente è un tema centrale per il governo della della rete infine vorrei concludere con due parole sulla media literacy che rappresenta evidentemente un elemento centrale per fornire ai cittadini gli strumenti per godere ed esercitare appieno i propri diritti digitali sul tema l'autorità ha portato a compimento un'attività di monitoraggio ad ampio spettro delle iniziative di alfabetizzazione e quello dell'alfabetizzazione cioè della possibilità per tutti i cittadini di utilizzare la rete in modo consapevole è un obiettivo al quale evidentemente dovrebbero concorrere tutte le istituzioni diciamo queste erano un po' le cose ho dovuto ovviamente selezionare e come dire condensare le cose che volevo dirvi questo libro è sicuramente denso di suggestioni e diciamo provocherà anche un dibattito fecondo nel futuro noi come autorità indipendenti siamo ovviamente cerchiamo di come dire recepire gli esiti di essere attenti a questo dibattito e in qualche misura di contribuirgli nell'obiettivo comune di garantire seppure insomma in questa corsa frenetica con la tecnologia un governo evidentemente alla rete vi ringrazio molto grazie presidente come avete visto il presidente la sorella ci ha dato anche un quadro aggiornato del punto in cui si è in tema di regolazione che si muove tra regolazione europea e regolazione dell'autorità nazionale competente che è appunto quella che lui presiede e ci ha dato anche uno sguardo su importanti implicazioni sul terreno diciamo dell'economia e della ripartizione delle risorse il suo accenno finale sulla televisione ci verrà buono prossimamente perché faccio anch'io un po' di pubblicità per così dire sta per essere pubblicato una nostra ricerca ampia una ricerca ampia di Astrid su la televisione del futuro è in corso di pubblicazione presso l'editrice il mulino e credo ormai sia questione anche questa di qualche settimana arriverà in libreria e naturalmente a questo punto ci permetteremo di utilizzare di nuovo o meno di invitare di nuovo il presidente la sorella a partecipare perché è un altro delle questioni come avete già capito che è al centro dell'attività di regolazione e di vigilanza dell'autorità per le garanzioni e comunicazioni do adesso la parola alla dottoressa Francesca Medda direttrice centrale CONSOB e anche fondatrice dell'Istituto of Finance and Technology dell'University College di Londra buongiorno a tutti non so se grazie grazie a Astrid grazie a Luz allora io essendo un professore poi che lavora in Inghilterra quindi avrò uno stile un po' diverso dai miei colleghi quindi mi scudo principalmente che non ho le slides perché solitamente io ho slides però va bene andiamo così quindi ringrazio prima di tutto perché Murino mi ha mandato questi tre volumi e io le ho letti subito però di questi tre volumi come vi potete immaginare ci manca sempre qualcosa perché voi l'avete scritto pubblicato nel 2022 e io immediatamente ho detto ma qui manca una cosa fondamentale e cioè un capitolo sulla sandbox quindi adesso vi racconto in pratica che cos'è una sandbox e poi c'è Massimo con cui noi condividiamo le sandbox e quindi magari vi aggiunge qualcosa anche lui su Banca d'Italia allora adesso vorrei ho utilizzato una cosa perché volevo collegarmi al vostro rettore Francesco Bonino che è uno storico quindi vi chiedo prima di tutto di immaginarvi adesso di essere nel 1898 a New York allora nel 1898 avviene la prima conferenza mondiale degli urbanisti quindi tutti gli urbanisti del mondo arrivano a New York è la prima conferenza e si forma in quel momento anche questa nuova disciplina che è l'urban planning allora perché si riuniscono a New York perché proprio in quel momento c'era un fondamentale problema a New York che era una delle città più grandi del mondo c'erano tantissimi abitanti però il trasporto di tutto il trasporto delle persone avveniva con i cavalli c'erano 200.000 cavalli quindi immaginate il primo grandissimo problema di questi cavalli era gli escrementi c'erano talmente tanti escrementi dappertutto e sfortunatamente erano le slide perché sarebbe stato divertente farvele vedere che avevano ipotizzato che se si continuava così si arrivava nel 1930 ad avere escrementi all'altezza di un palazzo di tre piani quindi non si sapeva si doveva risolvere immediatamente questo problema eppure nel momento stesso che si parlava di cioè tutta la conferenza era stata una conferenza un po' strana tutti si parlava di escrementi e basta non si era riuscito a risolvere il problema perché tutti pensavano come lo risolviamo questo problema i cavalli erano il fondamentale del trasporto e vabbè questo era era non si non si riusciva a trovare una soluzione di come pulire rimettere a posto insomma così via però già nel 1886 si fa cioè già la prima macchina la prima macchina motore di Carl Benz quella è la prima macchina ma arriviamo fino al 1908 con il modello T della Ford quindi c'è una rivoluzione in pochissimi anni da un cambio quindi tutto il trasporto basato sui cavalli che non si poteva immaginare nient'altro che questo movimento di questo trasporto attraverso i cavalli ha una rivoluzione in pochissimi anni veramente una transizione che è stata velocissima dai cavalli al motore alle auto perché vi racconto tutto questo perché quando sono arrivate poi le auto quindi le auto erano completamente diverse siano costruite le strade per i cavalli e in realtà se andate a Londra ancora le strade sono costruite con l'idea del cavallo però che cosa era successo? che iniziano ad esserci gli incidenti cioè le persone vengono uccise insomma di tutto di più le macchine andavano diversamente dai cavalli e allora attraverso una sperimentazione proprio di questi urban plan si creano tutte le regole che sono le regole che noi stessi applichiamo adesso cioè le strisce pedonali vengono inventate in quel periodo le strisce pedonali le aree pedonali dove noi ci fermiamo per attraversare sono inventate in quel periodo cioè attraverso tutta una serie di sperimentazioni si arriva a tutta la normativa quindi adesso arriviamo a quello che vi voglio raccontare io quindi la sperimentazione è una cosa che avviene e è avvenuta sempre è sempre stata è sempre stata pensata e nel sistema finanziario per la prima volta utilizziamo nel mondo soprattutto quando parliamo del mondo digitale che è quindi un mondo molto veloce questa sperimentazione dei soggetti che arrivano che noi chiamiamo fintech cioè aziende che combinano la tecnologia digitale e il mondo finanziario all'interno di ambiti sempre dove si prevedono delle deroghe normativa però forniamo degli ambiti controllati dove noi possiamo verificare come in un laboratorio che cosa sta avvenendo allora questo ambito questo sandbox che cosa serve principalmente per spingere l'innovazione quindi l'innovazione ha un ambito dove si può controllare prima che entri realmente nel mercato quindi si fa una prova un test e poi anche per noi regolatori cioè per noi ad esempio Consum Banca d'Italia IVAS perché così scopriamo come sono queste nuove entità che non conosciamo neanche noi noi abbiamo una regolamentazione che non è creata proprio per le fintech quindi è uno scambio continuo questa idea è un'idea altamente innovativa il regolatore non l'ha neanche mai cioè spedimentare la regolamentazione nel mentre che l'azienda prova anche loro a fare le prove di fronte cioè quindi controllati diciamo che noi Consum Banca d'Italia e IVAS siamo come diciamo licenziati nel laboratorio mentre le aziende sono come delle cavie per noi facciamo così allora in Italia la sandbox nasce è una cosa recente è stata creata insieme cioè la Banca d'Italia l'IVAS la Consob si sono mette insieme e attraverso il decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 2021 la legge cioè il decreto numero 100 si crea questa sandbox che cosa succede nella sandbox si apre una finestra e si dice all'azienda se volete entrare questi sono i parametri per entrare le condizioni in Italia c'è stata una finestra di 4 mesi adesso io guardo Massimo giusto perché io sbaglio anche se eravamo lì che lavoravamo quindi 4 mesi tante aziende sono entrate nel caso specifico della Consob 25 aziende hanno richiesto di entrare ma poi alla fine nessuna azienda è entrata all'interno della nostra sandbox quindi noi come Consob ci siamo dovuti fermare cioè facciamo una sandbox abbiamo parlato tutti i giornali e poi 0 aziende fanno entrare li facciamo entrare e allora abbiamo fatto due considerazioni non dico Banca d'Italia non c'è Massimo che è il finale della Banca d'Italia Banca d'Italia abbiamo fatto entrare quanti ne avete? 25? 20? 20? 20? 22 Banca d'Italia IVA 6 e Consob 0 quindi per noi è stato un momento importante perché abbiamo fatto c'è stata una legge è stata fatta una sandbox e in qualche maniera è andata malissimo in realtà era interessante e molto è stato molto interessante per noi perché le sandbox sono anche sperimentazioni per noi regolatori e quindi la prima cosa è stata la prima punto è stato dove abbiamo sbagliato cosa abbiamo cosa abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato completamente se 0 azienda è entrata e poi l'altra domanda che ci siamo chiesti è è vero che sia la sandbox l'unico strumento che ci può servire per fare regolamentazione quindi le due domande che ci siamo posti era una a brevissimo tempo come possiamo cambiare la legge due ma è vero è vero che l'unico strumento di regolamentazione per la fintech è la sandbox come in qualche maniera l'Unione Europea ci sta spingendo la commissione europea sta spingendo in maniera molto forte ad utilizzare le sandbox per regolamentare le fintech è tutto il digitale perché è un ambito dove uno sperimenta e poi piace molto diciamo anche ai sistemi politici perché è un mondo veramente nuovo allora adesso vi racconto in breve che cosa abbiamo fatto noi insieme ai miei colleghi e ai colleghi Banca d'Italia e Ivas allora prima di tutto si è analizzato per quale ragione non era entrato nessuno certamente il regolatore italiano aveva immaginato un mondo che non era esattamente quello delle fintech italiane il mondo delle fintech italiane è un mondo di start up di aziende molto piccole e quindi i criteri che erano stati stabiliti erano troppo rigidi erano veramente era stato richiesto delle condizioni veramente troppo rigide e quindi all'interno di un anno ma veramente siamo stati veramente bravissimi all'interno si è fatta la modifica e la nuova legge il nuovo decreto legge è del 17 marzo 2023 quindi siamo adesso ci incontriamo a maggio e decidiamo la nuova finestra quindi c'è stata subito una modifica questo è importante per capire che le sandbox sono anch'esse delle cose dove si deve diciamo provare e testare e vi racconto di due sandbox che sono le due sandbox più classiche più note che è quella della Gran Bretagna e quella dell'Australia sono sempre gli esempi più classici una di grande successo l'altra di fallimento e ve le racconto perché in realtà anche se si parla di successo e di fallimento sono esattamente la stessa cosa cioè se le guardiamo come l'esempio a Consob allora la FCA che è la Financial Conduct Authority della Gran Bretagna è l'autorità che in qualche maniera ha inventato ha messo sulla prima sandbox nel 2016 io ho fatto parte dei primi cohort dei primi controlli perché chiamavano anche esperti esperti che dovevano controllare le prime sperimentazioni allora grandissimo successo vi dico soltanto che nel 2023 hanno fatto application hanno chiesto di essere ammese 2225 aziende in un cohort quindi c'è un numero altissimo di aziende nella Gran Bretagna che chiede di entrare è verificato e ormai ci sono studi che si è verificato che le aziende che entrano dentro una sandbox almeno nella sandbox inglese c'è un aumento medio del 15% del capitale raccolto dell'azienda cioè come si esce poi quando si va nel primo round del venture si riesce a recuperare un 15% in più quindi è importantissimo anche per l'azienda entrare dentro queste sandbox però nel 2021 cosa succede quindi nel 2021 il governo inglese diceva vabbè rivediamo tutto riesaminiamo benché abbiamo un successo nelle nostre mani perché un successo era riesaminiamo tutto vediamo se possiamo fare di più possiamo fare meglio o possiamo fare qualcosa e ci sono state quindi nel 2021 con il report che viene dato a Califa questo quindi tutti questi cioè vari studiosi che esaminano la situazione della sandbox della FCA si analizzano alcuni aspetti che dovevano essere modificati viene modificato ad esempio l'ingresso ormai non ci sono più finestre cioè è sempre aperto le aziende possono entrare in ogni momento nella sandbox ma la cosa più interessante che era un elemento negativo cioè l'FCA non gli era piaciuto tanto era un esperimento che l'FCA aveva fatto nel 2020 avevano pensato di fare una piccola sandbox in collaborazione con la City di Londra quindi avevano la sandbox loro grande molto di successo pensate che nell'innovation cioè chi lavora nella sandbox sono 100 persone dedicate questo non parliamo di noi quindi 100 persone dedicate solo alla sandbox allora invece creano questo piccolo esperimento non ci credevano molto perché l'esperimento era mettiamo noi FCA più la City di Londra più altri stakeholders generici altri esperti giuristi e così via e vediamo cosa succede erano molto poi una sandbox molto specializzata soltanto sui dati ESG quindi Environmental Social Governance Data e soltanto sulle applicazioni delle informazioni finanziarie quindi degli esperimenti molto molto cioè avevano dei target molto precisi e questa sandbox che FCA a cui non c'erano molto non ci tenevano tanto perché era più diremo easy going cioè era più facile entrare non c'erano delle regole così strette alla fine del report dei Califa del 2021 viene richiesto che questa sandbox diventi uno dei pilastri fondamentali della FCA quindi vediamo che già una sandbox molto di grande successo ha cambiato nel tempo e quindi anche questa cioè non c'è una struttura la struttura che noi ad esempio in Europa utilizziamo sempre quella della FCA come esempio fondamentale è una sandbox che cambia continuamente vi faccio l'esempio invece della ASAC quindi l'autorità di vigilanza cioè quindi la CONSOB australiana perché lì l'esempio è rovesciato 2016 anche loro partono e al contrario della FCA all'interno di questa sandbox come la CONSOB non entra nessuno proprio un disastro totale e anche loro come in qualche modo la CONSOB insieme agli altri regolatori si sono fermati hanno detto che cosa è successo e hanno stabilito una sandbox che era completamente diversa completamente diversa perché adesso hanno dei test di ingresso molto specifici sull'innovazione quindi molto molto più chiaro come si entra dentro la sandbox l'altra cosa interessante che è quello che è successo in qualche maniera a noi CONSOB è che loro avevano anche aperto un canale di informazione cioè un canale di informazione che funzionava benissimo e questo canale di informazione riceveva più informazioni che la sandbox australiana disastro però il canale di informazioni che aiutava le fintech a come applicare la regolamentazione funzionava molto molto bene e quindi nei vari anni 2020 2021 hanno fatto uno cambio totale della regolamentazione e adesso diciamo quando hanno riaperto la fintech cioè la sandbox e la sandbox ha avuto 8 applicazioni quindi cosa vi volevo raccontare qui che il regolatore italiano così come il regolatore europeo ha guardato questo laboratorio come un laboratorio interessantissimo per creare la regolamentazione però è un laboratorio che anche anch'esso ha bisogno di sperimentazione cioè non abbiamo delle regole chiare non sappiamo esattamente come si devono costruire questi muri quante provette dobbiamo usare ma tutto deve essere calibrato a secondo del mercato che abbiamo dello stato con cui lavoriamo delle norme con cui gestiamo e per cui questo strumento non può essere considerato come l'unico strumento cardine per la regolamentazione ed infatti vorrei tornare indietro su un altro strumento che per noi è stato molto utile ed è stato lo strumento che è stato utilizzato in Australia e cioè quella che noi chiamiamo in termini consobese l'interlocuzione cioè aprire un canale di informazione e parlare con le aziende in maniera informale questi hub che noi chiamiamo innovation hub in consob si chiama lift tech il nostro canale di informazione nasce il primo canale di informazione sulle fintech che nasce in Lussemburgo nel 2014 quindi abbiamo molta esperienza però l'interessante è aprire un dialogo per la prima volta l'autorità si apre a delle discussioni a del dialogo con le aziende sono delle diamo soltanto degli orientamenti non vincolanti quindi si parla con un gruppo di 5 persone 5-6 e l'azienda ci racconta quello che vogliono fare e noi diamo aiuto a loro e spieghiamo esattamente che cosa e come si deve implementare la regolamentazione per quanto riguarda la fintech questo strumento per noi quando abbiamo aperto la finestra noi abbiamo avuto 44 aziende che sono venute nello suo canale e queste 44 aziende ci hanno aperto gli occhi perché noi avevamo un'idea di che cos'era la fintech un po' teorica e poi ci siamo abbiamo scoperto che c'erano aziende piccoline di ragazzi che non avevano assolutamente idea di che cosa fosse la console la norma e così via altre aziende molto avanzate altre aziende che avevano soltanto un concetto ma niente veramente di reale e quindi avere questo finalmente questo rapporto diretto con l'autorità che non è più un'autorità di vigilanza ma è un'autorità di supporto di grande attenzione e soprattutto di supporto all'innovazione era un altro aspetto e quindi lì voglio puntare abbiamo la sandbox però anche questo aspetto è molto importante perché nel nostro caso è stato proprio grazie a questo che noi abbiamo fatto poi la modifica normativa perché con l'esperienza diretta siamo riusciti a fare questo quindi questo è quello che vi volevo raccontare brevemente quello che vi volevo dire è che quando vediamo che cosa è successo nel mondo e diciamo l'unico studio che è stato fatto di tutte le esperienze mondiali è stato fatto solo dalla banca mondiale dove sono state studiate 75 sandbox si vede che anche nel loro caso si mette in evidenza come questo rapporto che si ha cioè questi canali di informazione di supporto alle aziende riescono ad avere sugli aziende questo stime 12 volte cioè l'effetto è 12 volte superiore che la sandbox direttamente perché la sandbox ha un po' certe aziende non vogliono entrare in questa sandbox ci sono dei casi soprattutto in Inghilterra che quando si entra nella sandbox soprattutto alle aziende piccole una volta che escono e fanno la prima raccolta di round nel venture poi dopodiché vengono acquisite in un'azienda più grande quindi è una vita brevissima i dati ci dicono che soprattutto per le aziende piccole è molto è altamente probabile questo merger e acquisition immediato quasi quindi l'altra parte cioè il nostro canale il canale è stato benché non è tanto pubblicizzato è un canale invece c'è di grande supporto e di grande aiuto quindi questo è quello che vi volevo raccontare che è altamente innovativo perché i due mondi quella della sandbox e quella dell'innovation hub erano innovativi per noi consob suppongo erano innovativi anche per la banca d'italia e per l'ivas e quindi c'è dentro le autorità questa idea di sperimentare sperimentare per arrivare a una migliore regolamentazione quindi ringrazio ancora per l'invito ma soprattutto ci dobbiamo preparare per un nuovo capitolo adesso quindi grazie a tutti grazie a lei e allora la parola a Massimo Doria che è vicecapo del dipartimento circolazione monetaria e pagamenti di Banca d'Italia sì grazie adesso meglio sì comunque ero ai ringraziamenti quindi non vi siete persi niente che rinnovo al Presidente Antonio Perrucci con cui ci siamo confrontati in questi giorni ringrazio anche voi di essere di essere qui oggi quindi mi fa piacere portare il punto di vista della Banca d'Italia non mi alzo perché ho delle slides che vorrei in parte utilizzare sono tante le lascerò e provo a partire subito ecco è stato già detto già detto molto e quindi insomma più che aggiungere informazioni io vorrei provare a raccogliere un po' gli spunti i punti di vista anche gli stimoli che sono stati offerti da chi ha parlato prima di me e che alla fine ritrovo nei tre volumi che mi sono stati dati in lettura a me pare ma è un punto di vista insomma e quindi vale il punto di vista che può valere quello di tanti altri e che però il senso ecco di questa ricerca il senso delle cose che ci stiamo dicendo oggi sia in qualche modo rappresentabile attraverso tre punti di riferimento il primo è che la tecnologia veramente cambia io sono in Banca d'Italia da 32 anni mi sono occupato di varie cose e ciclicamente ci diciamo questo momento di cambiamento come ce ne sono mai stati prima poi non è vero insomma tutti i cambiamenti anche quelli più disruptive come si dice vengono in qualche modo assorbiti in un ciclo ordinato di loro gestione però qui ci sono delle cose diverse c'è effettivamente un'impronta tecnologica che l'intendenza artificiale esprime che sta sostituendo tutti i parametri a cui siamo abituati cioè la tecnologia ha di per sé una propria anche autosufficienza nel procedere nello svilupparsi che in qualche modo ci spiazza lo diceva anche Francesca Medda prima questa è una grande sfida per gli operatori per il mercato però vi assicuro lo è soprattutto per le autorità e per i regolatori anche il presidente della sorella ha fatto riferimento a questo stanno cambiando veramente cambia il sistema di interpretare i fenomeni e di dare delle regole ora per dei ragazzi così giovani come tanti ce ne sono in sala forse dare delle regole non è una espressione che suona amichevole ma regolare questi fenomeni non significa in qualche modo contenerli significa raccogliere un'esigenza di garantire uno sviluppo ordinato che è la condizione per cui la tecnologia possa esprimere dei benefici qual è il parametro che dobbiamo avere tutti noi come autorità ce l'abbiamo ben presente intanto un fenomeno è da sostenere da regolare in questo senso in quanto alla fine possa produrre un beneficio se non c'è un beneficio per l'economia l'economia è fatta di persone di famiglie di imprese e allora qualche domanda ce la dobbiamo porre magari se ci riesco dopo un cenno lo faccio per esempio c'è tutto il mondo delle criptoattività che vivono di algoritmi che vivono di automatismi di intelligenza artificiale e lì in tanti casi forse la domanda ma servono davvero che beneficio producono e occorre farsela prima ancora insomma che accogliere questo avanzamento accritivamente come uno sviluppo positivo soltanto perché è un'impronta tecnologica ecco regolare ed è il terzo punto quindi tecnologia che in qualche modo cambia un po' i termini di osservazione il secondo punto la necessità di regole per garantire che poi si producano benefici il terzo punto è ovviamente come farlo e qui siamo lo hanno detto prima di me l'ha detto il Presidente introducendo siamo un po' in un campo aperto per almeno due buoni motivi il primo è che gli strumenti tradizionali di regolazione questo vale un po' per tutti i settori e credo nel campo finanziario si veda molto bene ti aiutano ancora in tanti casi ma in molti casi non ti aiutano più perché noi siamo stati educati almeno quelli della mia generazione ad avere in mente un mondo che regoli avendo un interlocutore o comunque un'attività definita questo è un mondo dove molto spesso l'interlocutore sfugge e quello che fa legge è proprio la tecnologia adesso questo proverò a dirlo dopo non è detto che un algoritmo viva perché c'è uno che lo gestisca non è detto che una piattaforma per esempio di finanza decentralizzata esista perché c'è qualcuno che ne ha il controllo c'è un automatismo che sta dentro l'aspetto tecnologico l'algoritmo che porta a una serie di problemi e ti mette in difficoltà adesso se il presidente mi consente di essere un filo irriverente questa è la chiave di lettura un po' di tutte le regole che stiamo mettendo in campo che sono ottime l'Europa è il leader mondiale in termini di regolazione digitale però se uno riesce a farci una ricerca una lettura un pochino attenta vedrete che il perimetro di queste regole si ferma sempre sull'orizzonte di quello che vedi non su quello che dovremmo regolare facciamo un regolamento sulle criptoattività e mettiamo dentro quello che in qualche modo riusciamo a gestire e quello che riusciamo a gestire è quello che chiama dentro un emittente un distributore quello che sappiamo fare ma al di là di quel perimetro insomma forse su questo i ragazzi più giovani sono più bravi di noi c'è tutto un mondo ci sono piattaforme che non rispondono a nessuno perché sono sopravvissute a colui che l'ha ideata o prodotti che non hanno un emittente che sono totalmente sintetizzati nell'infrastruttura e che vivono proprio in base all'algoritmo e questo è un primo punto l'altro e poi inizio finalmente con la presentazione per rispettare i tempi e sempre insomma consentendovi un minimo di riverenza è veramente una grande sfida per le autorità noi la stiamo vivendo con un'intensità enorme anche facendo riflessioni molto aperte al nostro interno e la sfida è quella di fare ricorso a una prudenza che è assolutamente necessaria perché questo è un terreno pieno di minacce senza trasformarla mai in un'attitudine difensiva e questo è un rischio che corriamo tutti traducendolo significa che se una cosa non la capisci innovano gli strumenti tendi a bloccarla quello che diceva Francesca sulla sandbox secondo me risponde proprio a questo abbiamo costruito una scatola che dovrebbe attrarre innovazione digitale e ci abbiamo montato su delle regole che sono assolutamente analogiche il risultato è che poi peschi fino a un certo punto e questo si riperbora su molte delle nostre attività io però ho fatto un'introduzione che mi ha preso forse più tempo del dovuto e vado ai contenuti di questa carrellata ne salterò un po' di slide sono tante ma credo poi di poterle lasciare qui per chi ha voglia insomma di darci una lettura allora pensavo di organizzare ecco in questo modo un po' la mia esposizione dare un po' un'idea di quali sono i numeri di questo mercato dell'intelligenza artificiale di quali sono le principali applicazioni tornare un momento l'ha già fatto il presidente e la sorella lo rifarò io molto sinteticamente sulle iniziative regolatorie in corso in particolare il regolamento e poi dirvi un pochino quello che stiamo facendo su quello vorrei soffermarmi un po' di più per creare condivisione e poi anche per stimolare riflessioni e raccogliere osservazioni abbiamo molti modi per raccogliere l'osservazione di chi ha voglia di dialogare con noi e proverò a dirveli ora vado velocemente su questa prima parte della presentazione che magari vi lascio senza annoiarvi con i numeri il senso di questa descrizione è che il mercato dell'intelligenza artificiale è in forte crescita qui adesso a parte i numeri guardate un attimo come è costante la crescita e come sia molto molto rapida fino ai 2 trilioni di dollari americani nel 2030 come valore di mercato generale questa è una rappresentazione del tasso d'adozione dell'intelligenza artificiale con riferimento anche alle imprese finanziarie che rispondono alla stessa logica di intensità e di velocità mi sembra interessante fotografare diversi settori quindi crescono tutti ovviamente abbiamo un'incidenza particolare nel settore dell'i-tech e delle telecomunicazioni questo credo che un po' risponda anche all'osservazione dell'autorità presieduta dal presidente della sorella però il settore finanziario sta finanziario intendo tutto quindi finanziario anche il mondo dei pagamenti che tanto incide su questa dinamica sta spingendo molto e sta spingendo molto anche in Europa perché in Europa per esempio le regole sono un abilitatore un incubatore di innovazione abbiamo molti esempi di questo e stanno facendo il loro lavoro quindi idealmente ci sono alcuni mercati come lo statunitense israele che sono leader per la tecnologia altre aree come quella asiatica tirano molto perché hanno dei mercati con regole molto flessibili qualche volta blande che riescono a trarre molti investimenti ecco l'Europa si conferma invece leader per la regolazione digitale ed è una cosa che non è disconnessa dalle altre due perché è una buona regolazione da certezza alle parti è in grado di attrarre investimenti e soprattutto di mantenere idee e talenti ecco questo è uno spaccato interno all'Unione Europea l'Italia è collocata in una posizione diciamo di mezzo non ecco vorrei richiamarvi il fatto che questo non rappresenta una vista sulla complessiva propensione digitale dei singoli paesi è uno spaccato relativo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia pure in crescita ancora comunque un livello complessivo sostanzialmente basso ecco dove viene applicato tutto questo mondo nella vista che noi abbiamo sul settore finanziario il caso più rappresentativo è quello del del contrasto alle frodi ora questo è un punto che non è solo statistico non è solo perché avviene questo un po' avviene perché c'è una pressione regolamentare un po' perché c'è quello che si diceva anche all'inizio cioè una condizione essenziale per qualunque sviluppo è la sua sicurezza ed è questo il motivo per cui nel campo finanziario sia l'autorità ma sia gli intermediari gli operatori investono in tutto quello che può rappresentare un'argine una difesa rispetto a eventuali compromissioni questo della sicurezza è un tema ampio è una sicurezza operativa una sicurezza tecnica è la sicurezza che va dal momento dal contrasto alla possibilità che vi clonino la carta di credito a una sicurezza che deve garantire l'integrità del sistema per evitare che un'operazione sia pure regolare sia utilizzata a fine riciclaggio o di finanziamento del terrorismo quindi questo è il motivo per cui ci si investe così tanto noi abbiamo in qualche modo stiamo sondando lo facciamo una rilevazione che chiamiamo fintech che guarda gli intermediari bancari e abbiamo in qualche modo uno spaccato degli utilizzi dell'intelligenza artificiale è uno spaccato che io definirei promettente ma non soddisfacente è promettente perché vediamo che si sta ampliando il range delle aree di interesse per le applicazioni di intelligenza artificiale non l'ho scritto nella slide ma diciamo non è ancora sufficiente perché in molti casi questi investimenti da parte delle banche rispondono a delle logiche di compliance che vuol dire che io ho una regola che ti impone di fare delle cose e tu sei obbligato a farle e quindi investi per essere conforme rispetto alla regola ora qui è un altro tema molto delicato perché diciamo la pressione della compliance sviluppa in qualche modo atteggiamenti tesi a salvaguardare l'efficienza da parte degli operatori e quindi in qualche caso in qualche modo non dare spazio invece a quello che sarebbe l'aspetto più importante cioè investire in tecnologia non per essere conforme rispetto alle regole ma per prendersi un pezzo di futuro che è quello di cui tutti abbiamo maggiormente bisogno noi lo stiamo osservando questo fenomeno per tutte le opportunità che sono già state esposte mi fermo invece un pochino di più sui rischi perché penso che sia proprio il perno di questa di questa nostra riflessione anche di questa nostra mattinata di scambio di idee di proposta di prospettive perché è importante qui ne cito solo alcuni no? diciamo il primo è un rischio di pregiudizio nel senso che proprio quell'automatismo che sta dentro l'algoritmo il meccanismo di intelligenza artificiale può privare le decisioni del connotato discrezionale del connotato umano del connotato di valutazione non automatica che rende una decisione giusta e non diversa dall'unica decisione possibile in base ai parametri ci sono anche teorie scientificamente molto accreditate che addirittura confutano l'idea che più informazioni mette nell'algoritmo più l'algoritmo risponda bene perché addirittura c'è una situazione adesso senza andare su terreni troppo tecnici di ingolfamento dell'algoritmo per un eccesso per un eccesso informativo in più non tutti e non per tutti e non a tutti è chiaro la modalità di funzionamento di questi algoritmi un po' ti devi fidare a qualunque livello e hai un grande deficit qui l'impossibilità allo Stato di dialogare con quei soggetti che poi scrivono gli algoritmi li sviluppano che sono quelli che alla fine producono le leggi e gli algoritmi che tu ti porti nel tuo mondo tradizionale e nel mondo che vedi ma un pezzo ti manca e questo trascina anche un tema di governance cioè chi è che decide davvero è il tizio a cui io do le regole a cui chiedo a cui faccio la sanzione o c'è qualcuno che non conosco che ha profilato una serie di conseguenze di presupposti di parametri di capacità di acquisire i dati di sviluppo col quale io non ho mai parlato e non so chi è non so dove sia oltre diciamo a un tema di fake news che però è il risultato di quello che dicevo prima perché dicevo questo è importante perché rappresenta quello che il connotato di sfida a cui mi riferivo all'inizio rimane importante avere un tessuto regolatorio che possa essere chiaro nella definizione di soggetti obbligati e attività consentite nella sua importanza ed essenzialità forse dobbiamo avere il coraggio un po' di ammettere che può non essere sufficiente in certe realtà ed è quello su cui ci stiamo ci stiamo misurando ed è quello un po' che sta all'interno anche della proposta regolatore europea perché è importante adesso al di là dell'iniziativa che conferma l'ampiezza della vista del regolatore europeo al di là del fatto che stiamo andando adesso vedete in una fase di accelerazione dell'approvazione del testo dovrebbe esserci la posizione del Parlamento il prossimo 26 aprile significa che questo chiude i due testi quello del del consiglio quindi il general approach e quello del Parlamento e si apre una fase di discussione che è quella finale in cui Commissione Parlamento e Consiglio avviano quello che si chiama trilogo e arrivano a un testo finale che poi diventa applicabile in tutta l'Unione ma quello che a me sembra più interessante è questo lo si diceva prima cioè quello che guida l'idea che sta dentro questa operazione è non intercettare soltanto i soggetti e le attività ammesse ma puntare sul valore cioè sul risultato finale che noi vogliamo raggiungere cioè assumere una serie di parametri che sono quelli dei diritti fondamentali come si diceva prima e capire rispetto a quei diritti una serie di soluzioni che non possiamo tassonimizzare introdurre elencare in un elenco chiuso perché possono essere n e si arricchiranno sempre di più però qualunque soluzione quella che abbiamo conosciuto quella che stiamo conoscendo e quella che in futuro impareremo a conoscere deve rispondere a delle caratteristiche di rispetto di alcuni parametri fondamentali quindi la casistica l'idea che sta dentro quel regolamento è un'idea fortemente etica perché quel filone di cui insomma ormai si parla fortunatamente sempre di più di un'etica di una morale di un valore che deve essere all'interno della tecnologia e prevalere sul mero fatto tecnologico qui secondo me c'è tutto perché quando quella lesione dei diritti fondamentali è palese evidente c'è proprio un divieto si passa a delle aree in cui il rischio cede apprezzato c'è un assenso molto controllato un assenso meno controllato fino a una libertà quando c'è un'assoluta sicurezza questa frase brutta che sta all'interno del regolamento non mutualmente esclusivi significa che tu poi devi vedere caso per caso cioè ciascuna autorità sarà chiamata a capire in effetti qual è il rischio vero e poi portare un rischio basso un rischio alto o fare l'inverso sulla base di una valutazione di una valutazione concreta siamo ancora cinque minuti chiudo allora che cosa stiamo facendo noi lo stiamo sostanzialmente utilizzando il modello di intelligenza artificiale per le nostre attività interne di vigilanza stiamo facendo questo abbiamo aperto diciamo Francesca lo diceva prima una serie di canali di dialogo col mercato il partenariato pubblico privato a cui si faceva riferimento abbiamo un'offerta in Italia veramente importante che a livello internazionale non è molto diffusa c'è una serie concatenata di facilitatori di innovazione per cui tu puoi parlare liberamente con l'autorità abbiamo un canale che si chiama canale FinTech e fa pandan con quello della Consob abbiamo Milano Hub che è un posto dove raccogliamo le idee e le portiamo a sviluppo fino al progetto abbiamo la Sambox che gestiamo con la Consob e con l'Ivas abbiamo anche poi un comitato che si chiama Comitato Pagamenti Italia dove tutti gli attori domanda e offerta discutono del futuro digitale di questa industria quindi puoi dialogare con l'autorità puoi portare l'idea a progetto una volta che il progetto lo puoi sperimentare puoi elaborare visioni sul futuro in una logica molto integrata che sta avendo molti apprezzamenti anche a livello internazionale l'intelligenza artificiale viene raccolta come una delle tecnologie più promettenti ha formato oggetto di questo concorso della prima Call for Proposals del nostro Milano Hub abbiamo dedicato la seconda al tema della DLT dei registri distribuiti quindi delle blockchain quindi mi fermo solo 30 secondi per dire che cosa perché è importante questo modo di fare perché rappresenta non soltanto diciamo un messaggio che ci consente di raccogliere le buone idee che ci sono nel nostro mercato ma rappresenta un modo di fare vigilanza di essere regolatore perché quando noi lanciamo queste Call diamo un titolo nel dare il titolo spieghiamo quello che noi riteniamo sia desiderabile in termini di vista sul futuro e quindi per esempio se dico voglio la blockchain voglio avere progetti sulla blockchain dico perché siano sicuri siano capaci di rispettare il canone di trasparenza la tutela del cliente e così via però non ce lo diciamo da soli poi quando raccogliamo i progetti raccogliamo in realtà a parte i vincitori raccogliamo poi sostegno raccogliamo l'idea di quello che il mercato si aspetta di fare e questa è una condizione e questo è qui che c'è il pubblico privato per fare un punto d'incontro tra quelle che sono i tuoi principi le tue norme che sono fredde rispetto invece all'idea che il mercato ha e dove vuole andare il punto di contatto il punto di sintesi è quello che poi ti consente di progredire se avessi tempo vi racconterei che è stato un successo enorme quello della seconda call for proposals abbiamo tanti operatori esteri porteremo risultati di questa esperienza anche in giro per il mondo a Zurigo e a Singapore nel prossimo Fintech Festival che è quello che a livello globale dà proprio vista sulle buone idee sui paesi che sono in grado di portarli avanti chiudo con questo perché mi sembra interessante perché è un po' la sintesi del nostro impegno quindi come stiamo procedendo sicuramente noi sperimentiamo noi stessi ovviamente siamo pienamente coinvolti per esempio nella realizzazione dell'euro digitale di una serie di applicazioni che guardano molto al futuro alla sicurezza al benessere dei cittadini europei però l'idea è di queste tre grandi dimensioni continuiamo a lavorare per delle buone regole che guardano i soggetti di attività ci rendiamo conto che questi soggetti lavorano e sono legati da fattori tecnologici che devi controllare altrimenti perdi di vista il tutto questo strano aggeggio che si chiama PISA Framework sta per Payment Instruments Schemes and Arrangements ed è un framework dell'eurosistema che tende proprio a far questo a capire le logiche delle piattaforme dentro le quali poi applichi le regole su soggetti di attività però non ci fermiamo qua ecco c'è quell'idea di prenderci un pezzo del futuro in qualche modo di incidere sul futuro di non difenderci soltanto ma andare avanti a testa alta sta anche nella voglia di aprire un ponte su quei territori così lontani dal confine regolatorio ordinario abbiamo per esempio avviato una ricerca che presenteremo tra un mese e mezzo i primi risultati sugli smart contract sono proprio gli algoritmi che lavorano sulle block chain qual è il senso è quello di definire capire che sono e definire dei buoni principi tecnologici e giuridici qui per una platea di studiosi come questa si apre un mondo perché in quei buoni principi c'è anche la possibilità di dare certezza alle parti in gioco Presidente in un mondo che è tutto di regole globalizzate quello che non è globalizzato ma farà differenza a mio giudizio sono quelle norme del diritto privato che creano certezza fra le parti è una nuova giustizia 2.0 e che se ci sono possono attrarre investimenti ecco il frutto di questa ricerca lo metteremo a disposizione di chi avrà voglia di raccoglierlo chiudere qui e vi ringrazio grazie grazie a lei Dottor Dori adesso abbiamo una serie di interventi programmati il primo è quello del professor Filippo Donati che è uno dei tre coordinatori della ricerca sono lui Sandro Paino che concluderà i nostri lavori e Antonio Perrucci che parlerà tra poco allora si sente grazie a tutti grazie Presidente grazie all'Umsa per aver ospitato questo convegno per averci dato l'occasione di presentare questo libro questi tre volumi risultati di questa ricerca io vorrei brevissimamente fare il punto sulle idee che ci hanno spinto a avviare questa riflessione a mettere insieme questo gruppo di lavoro che poi ha dato origine a questi volumi riflettendo con Sandro Paino con Antonio Perrucci e con il Presidente Bassanini sulla intelligenza artificiale abbiamo individuato alcuni elementi che sono il primo il carattere interdisciplinare l'impatto dell'intelligenza artificiale investe tutti i settori del diritto l'abbiamo sentito oggi benissimo abbiamo sentito come impatta sul mondo della comunicazione sul mondo della finanza e sul mondo bancario è emerso oggi dai relatori che abbiamo ascoltato e che ringrazio che hanno dato dei contributi veramente importanti da tutti è stato sottolineato l'esigenza di una regolazione di un nuovo fenomeno ma una regolazione che deve essere fatta in modo non tradizionale perché in modo non tradizionale perché la tecnologia è in continua evoluzione e poi abbiamo anche sentito il ruolo fondamentale che le autorità rivestono quindi ci troviamo di fronte ad un mondo ad una tecnologia che avanza delle problematiche sempre nuove che non possiamo pensare che possano essere risolte con una regola e basta occorre un'attività costante delle autorità e questa esperienza veramente interessantissima delle sandboxes e dei laboratori di informazione ci danno un esempio di come è importante il ruolo svolto dall'autorità e secondo me per capire come questi caratteri stanno un po' insieme è sufficiente far riferimento alla vicenda che sta occupando le prime pagine giornali di tutti i giorni cioè quella di cosa sta accadendo con chat gtp tutti voi ragazzi conoscete chat gtp è una tecnologia di un successo straordinario è arrivata ad avere 100 milioni di utenti in due mesi è un'applicazione anche di straordinaria utilità è un'applicazione che viene impiegata sempre più spesso dalle aziende per interfacciarsi con i clienti dai centri di ricerca e quant'altro però è un'applicazione che comporta dei rischi e questi rischi investono due settori principalmente il tema del trattamento dei dati personali e soprattutto secondo me il rischio più grosso è quello della disinformazione cioè può diventare veramente uno strumento formidabile di trasmissione di fake news e di false informazioni allora per ora è intervenuta un'autorità l'autorità il garante della privacy ed ha bloccato l'utilizzo di chat GDP salvo poi riammetterlo con una decisione di due giorni fa a condizione che vengono adempiute una serie di diciamo di prescrizioni volte a garantire l'osservanza delle regole in materia di privacy quindi ad esempio l'illustrazione della logica che viene seguita da questo strumento di intelligenza artificiale per dare le risposte agli utenti la possibilità per gli utenti di ottenere la cancellazione dei dati non veritieri l'applicazione generale della regola del consenso e anche la tutela dei minori quindi la necessità di introdurre degli strumenti di age verification e quant'altro oltre a imporre a chat GDP una campagna di informazione sul modo in cui vengono raccolti i dati di allenamento del software i dati sulla cui base poi vengono generate le risposte agli utenti ecco è questo un intervento risolutivo un intervento che elimina una volta per tutti i rischi che discendono da questa applicazione io penso di no penso di no per vari motivi primo perché è impossibile pretendere di applicare delle regole quelle sul trattamento dei dati personali che sono state create per una realtà completamente diversa ad un sistema come quelli dell'intelligenza artificiale in cui non si può ogni volta di volta in volta andare a chiedere il singolo consenso per utilizzare il singolo dato che il sistema trova in rete e sulla cui base genera le sue risposte teniamo poi presente che non c'è soltanto chat gdp questa tecnologia è ormai utilizzata da tantissime applicazioni in tutti i più diversi settori e poi rimane io non so come l'affronterà se verrà affrontato dall'autorità anche il tema della possibilità della disinformazione in rete quindi noi abbiamo un intervento del di un'autorità garante che cerca di imporre l'applicazione di alcune regole io ritengo che questo non sia un intervento del tutto risolutivo perché perché sono degli strumenti quelli di intelligenza artificiale che hanno creato delle grandi novità sono di difficile inquadramento giuridico sulla base delle vecchie regole e quindi hanno bisogno di una regolamentazione ad hoc e ci ha pensato l'Unione Europea infatti è in corso di approvazione c'è stato detto benissimo il nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale è un regolamento dell'intelligenza artificiale che crea una serie di regole in base alla tipologia di rischi di sistema ma chat GDP come lo inquadriamo che tipo di sistema è perché il regolamento sull'intelligenza artificiale ci dice che debbono essere assoggetati a una regolazione stringente i sistemi che presentano alto rischio perché sono utilizzati in determinati tipi di applicazione ad esempio per selezionare il personale per valutare gli studenti per gestire infrastrutture critiche per svolgere funzioni nell'ambito della giurisdizione e quant'altro ma chat GDP è una applicazione che serve a tutto lo stesso regolamento sull'intelligenza artificiale ci dice che le chat box sono degli strumenti che non presentano nessun rischio perché quindi per i quali è sufficiente che l'utilizzatore dia una mera informazione al mercato però questa è una chat box chat GDP che è estremamente avanzata quindi vedete è difficilissimo creare regole anche questo regolamento sull'intelligenza artificiale che si prospetta come una nuova dimensione per regolare una realtà completamente nuova avrà necessariamente bisogno di adattamenti e qui vorrei concludere questo mio brevissimo intervento con questo con questa osservazione vengono in gioco le istituzioni perché sono le istituzioni che saranno chiamate a dare una risposta agli innumerevoli e sempre diversi problemi che queste tecnologie sono destinate a porre io sono stato veramente affascinato da queste presentazioni sulle hub su sandbox e gli strumenti di dialogo tra istituzioni e imprese perché di fronte a degli strumenti che cambiano completamente che pongono completamente nuove problematiche la flessibilità della regolazione la tempestività della regolazione diventa importantissima e allora qui si pone un problema istituzionale cioè noi giuristi siamo abituati a confrontarci con le regole e a pensare che tutto si risolva con la redazione di regole sapete che Astrid è una fondazione che fa molte proposte anche in tema di regolazione in tema di interventi politici su settori che hanno bisogno di essere regolati però qui si tratta di una problema di anche di scelta delle persone che andranno a formare le le nostre istituzioni perché la tradizionale i tradizionali criteri con cui si selezionano i componenti delle autorità indipendenti i componenti delle autorità di vigilanza dovrà essere integrata perché sempre più spesso avremo bisogno di tecnici informatici avremo bisogno di ingegneri avremo bisogno di data analysts perché ci troviamo di fronte ad un fenomeno che io condivido pienamente l'osservazione che è stata fatta da Massimo Doria cioè noi non possiamo permetterci di bloccare il progresso della tecnologia in nome dei rischi che discendono dall'impiego di un fenomeno di sistemi che non riusciamo a comprendere pienamente perché questo sarebbe estremamente grave e quindi noi dobbiamo pensare che anche gli strumenti di protezione dei diritti debbono essere completamente ripensati di fronte ad una realtà in continua evoluzione e quindi grazie per questi interventi che hanno dato veramente un ulteriore contributo a quello che abbiamo che abbiamo riceve raccolto attraverso il libro grazie grazie siano siano in condizioni di dotarsi delle competenze tecniche tecnologiche necessarie per poter governare e regolare questi processi questo il grande tema di attualità dell'attuazione del PNRR si in gran parte si tratta su questo cioè deve essere attuato da istituzioni che nei decenni passati non sono state messe in condizione di dotarsi a sufficienza perché prevalevano logiche diciamo di tipo contabile e finanziario che sottovalutavano l'esigenza di attrezzarsi con le competenze necessarie però prima ancora dell'intelligenza artificiale lo dicevamo naturalmente per i giovani che studiano questo è un'indicazione perché le lezioni del passato renderanno spero in futuro aperta la strada a tutte le competenze tecnologiche più avanzate perché si sta cominciando a capire quanto è importante che anche le istituzioni se ne dotino e se ne dotino tempestivamente altrimenti non sono in grado di seguire e rischiano e rischiano di prendere posizioni difensive che giustamente sono state qui come dire esorcizzate perché sarebbe stato come se per citare l'esempio che faceva prima la dottoressa Medda si è scoperto che le autovetture provocano incidenti si fosse deciso di vietare la produzione di autovetture voi capite che non è quella la soluzione la soluzione è stabilire delle regole e stabilire anche degli interventi sulle infrastrutture eccetera per mitigare questo rischio professor Mediri adesso Mario Mediri che è professore di ordinario di istituzione di diritto pubblico qui alla Lums ringrazio il nostro presidente ringrazio tutti i presenti i nostri studenti cari amici sicuramente avete sentito qualche giorno fa che alcuni esponenti importanti del mondo tecnologico americano del mondo imprenditoriale americano fra cui il famoso Elon Musk hanno firmato un appello preoccupati per il futuro dell'umanità e quell'appello varrebbe la pena peccato qua non avere una slide per proiettarlo perché vi sono delle frasi molto forti dicendo ah ma nel lungo periodo qui queste macchine pensanti prenderanno un dominio su noi umani ci saranno rivolgimenti catastrofici proprio sui fondamenti della nostra umanità quindi come vedete una grande preoccupazione sul lungo termine ma a proposito di lungo termine breve termine io ho l'impressione che questo importante convegno le relazioni che ci sono state è il lavoro veramente prezioso che hanno fatto gli studiosi coordinati dai tre curatori dei tre volumi tre illustri studiosi operatori del diritto che sono qui presenti ci facciano capire come probabilmente certe preoccupazioni di tipo catastrofista non meritano di essere eseguite perché oggi le relazioni dei nostri relatori e gli studi dei tre volumi ci dimostrano che non è vero che queste nuove tecnologie si muovano in un vuoto normativo è ovvio c'è un lavoro importante di aggiornamento normativo e di fatto il Parlamento europeo sta arrivando alla parte finale di questo lavoro di redazione dell'atto sull'intelligenza artificiale e dovrà presto esaminare anche speriamo in termini più rapidi le due direttive ancillari che dovranno integrare il regolamento la direttiva la liability directive perché vi è un grosso problema per adattare la responsabilità non contrattuale perché vi è un grosso problema dei danni che possono essere provocati evidentemente dai sistemi di intelligenza artificiale e una revisione della direttiva che già esiste sui prodotti difettosi cioè l'Unione europea aggiusterà e integrerà evidentemente una normativa sui prodotti difettosi lo dico giusto per chiarezza noi abbiamo una tecnologia versatile pluriversa come l'intelligenza artificiale che evidentemente entrerà e riconformerà degli oggetti dei devices quindi è ovvio che noi avremo anche da vedere il danno prodotto da oggetti smart che adoperano questa tecnologia quindi noi abbiamo certamente un grosso bisogno di aggiornamento normativo però abbiamo già adesso strumenti importanti per evitare che in questa fase l'impatto della tecnologia porti un allarme sociale un danno sociale senza che si predispongano adeguati rimedi e qui arrivo al tema del giorno il chat bot chat gpt leggevo in un sito americano che è un professore americano molto controverso anche perché ha difeso trump in una delle numerose avventure giudiziarie ha scoperto che su una domanda che era stata fatta a chat gpt lui è risultato autore di una molestia danno di una studentessa in una gita scolastica in alaska pensate una cosa veramente umiliante per il professore e chat gpt ha raccontato che effettivamente c'era anche un articolo the wall street journal peccato che l'articolo non esisteva che il professore non era mai andato in alaska con l'università e che neanche aveva insegnato in quella università come può essere successo voi vi rendete conto che al di là del problema di capire come la macchina ha predetto questa narrazione verosimile quello che è importante è che il professore che è anche un giurista e un avvocato potrà certamente avvalersi delle norme vigenti a tutela della sua reputazione perché non c'è ombra di dubbio che poi spetterà alla società che ha prodotto questo servizio di arrivare a spiegare come si è creato il danno e quindi difendersi in un giudizio perché arrivo a dire questo perché arrivo a dire che le preoccupazioni di Elon Musk e degli altri sembrano ignorare che noi comunque abbiamo un tessuto regolatorio oggi abbiamo visto anche autorità gli esponenti delle autorità indipendenti che ci fanno capire come già prima delle nuove norme loro siano al lavoro per creare regole buone prassi questo è molto importante in America un componente della Federal Trade Commission che è un'autority molto rilevante a tutela dei consumatori e del mercato ricordava che esiste una Section 5 che è una norma molto importante che si occupa delle pratiche commerciali scorrette e anche da noi abbiamo una tutela delle pratiche commerciali scorrette ricordo come c'è un'autority che qui non è presente ma a questo punto la ricordiamo per completezza come la nostra autorità garante concorrenza e mercato ha sfruttato questa normativa sulle pratiche commerciali scorrette per cercare di agguantare Facebook naturalmente poi con un esito in sede di giustizia amministrativa che è stato complesso in parte favorevole in parte non positivo quindi alcune regole ci sono nuove regole stanno per arrivare speriamo che queste nuove regole possono essere poi sufficientemente elastiche perché il rischio di poi di descrivere troppi dettagli potrebbe essere negativo queste nuove regole probabilmente verranno anche aggiustate integrate proprio in queste settimane per cercare di tenere conto della novità dei chatbot e ho letto appunto che i due rapporteur al Parlamento europeo fra cui anche un italiano stanno preparando emendamenti per preparare specifiche obbligazioni per i cosiddetti general purpose AI perché diceva giustamente il professor Donati è chiaro che dopo quello che abbiamo visto in queste settimane i chatbot debbono ricevere una configurazione un po' più mirata probabilmente bisognerà non esagerare mettendoli to core nelle applicazioni ad alto rischio ma neanche metterli fra quelli che non possono provocare nessun problema come la vicenda del povero professor Turley in America ci dimostra dunque ci saranno nuove norme ma fin d'ora abbiamo le authority e ancora una volta come docente della Lumsa sono veramente grato agli esponenti delle istituzioni indipendenti per essere venuti sulle sperimentazioni regolatorie noi abbiamo avuto il nostro garante che in qualche modo ha fatto un passo audace lo ricordo soprattutto per i ragazzi non soltanto ha aperto un procedimento ma addirittura ha adoperato una misura cautelare che cosa vuol dire misura cautelare cioè che in attesa di un pieno contraddittorio intanto l'autore ti ha detto tu ti fermi e mi devi dare spiegazioni sulla privacy su tutta una serie di modalità con cui controlli l'età dell'utente eccetera quindi una misura diciamolo con una certa franchezza abbastanza pesante perché è entrata subito e li hanno acchiappati e qualcuno ha osservato ma insomma ma dov'è il principio di proporzionalità ma insomma la tecnologia un importante commentatore ha scritto stra paese vince sul futuro vince sulla tecnologia vince sull'innovazione ora io vorrei dire senza rubare troppo tempo due cose è evidente che ogni autorità pubblica deve muoversi in un campo così delicato sempre con grande cautela con rispetto del principio di proporzionalità che oltretutto è un principio europeo immediatamente applicabile nel nostro ordinamento è applicato in effetti in maniera egregia dal nostro giudice amministrativo già in una pluralità di cose però è pure vero che in un quadro di questo genere se posso esprimere un mio giudizio franco noi non possiamo neanche esorcizzare quello che io chiamerei se me l'ho passato una sorta di sperimentalismo regolatorio non vorrei essere frainteso io non intendo dire che le autority si possono mettere a inventarsi cose in termini arbitrari per carità per fortuna c'è il controllo giurisdizionale ma in questa situazione provare a fare delle cose vedere le reazioni e casomai aggiustare il tiro forse non è una cosa da esorcizzare siamo un po' fuori dagli schemi che io avevo appreso quando studiavo diritto amministrativo quando ero ragazzetto il principio di legalità la predeterminazione dell'azione amministrativa però onestamente se mi consentite un ultimo riferimento di comparato quando l'autority tedesca l'ufficio federale per i cartelli il Bundeskartellamt ha contestato a Facebook di unire i dati generati dall'uso della piattaforma con i dati esterni generati dall'utente andando in altri siti le terze parti mischiandole tutte e fregandosene del consenso e così facendo rafforzandosi sul piano concorrenziale l'autority tedesca è stata coperta da critiche perché ha detto tu sfrutti senza precedenti senza base legale ti sei inventata una tutela della privacy ma a fini diversi cioè per fare il lavoro di autorità garante della concorrenza cioè è adoperato un benchmark che non è di mercato perché è un problema di tutela dei dati che non era roba tua ora in effetti al di là dei pro dei contro della decisione dei tedeschi però io mi limito a constatare che dopo quella cosa certamente discutibile che è certamente ha prodotto un contenzioso che addirittura è finito ora alla corte di giustizia europea però sta di fatto che il nuovo Digital Market Act questo uno dei pilastri digitali che per fortuna questo si è già entrato in vigore prevede all'articolo 5 un divieto di fare questo mix di dati senza il consenso dell'utente e quindi come vedete una mossa un po' ardita di un'autority ha prodotto poi una ricaduta normativa che in qualche modo ha posto per il mercato per le piattaforme una regola e quindi chiudendo in questa fase che è necessariamente anche inevitabilmente caotica io direi che anche qualche iniziativa coraggiosa e magari un tantinello fin troppo audace delle autorità va letta con un'ottica di comprensione perché in gioco e qua ritorno al tema che è veramente sotto tutti i contributi di questi magnifici volumi che sono qui presentati c'è il tema dei diritti fondamentali e quindi alla fine la tutela del diritto fondamentale può credo giustificare qualche mossa regolatoria sperimentale che poi potrà essere consolidata aggiustata ricalibrata e auspicabilmente accettata nel medio periodo dagli operatori in modo da guidare l'evoluzione tecnologica in chiave rispettosa dei diritti fondamentali ed evitando la visione catastrofica e disumana che è oggetto di quell'appello degli operatori studiosi americani che vi dicevo e che addirittura avevano chiesto fermatevi per sei mesi perché qua se no produrremo nei prossimi anni dei disastri io penso che questo seminario abbia dato un contributo che si può continuare a camminare guardando al futuro e cercando di guidare il futuro verso il rispetto della dignità della persona grazie 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 professor Midiri naturalmente nel caso di Musk si potrebbe dire da che pulpito viene la predica ma insomma il professor Perrucci che è anche il direttore del laboratorio sull'ecosistema digitale di Astrid Astrid LED che ha promosso la ricerca Antonio grazie presidente grazie Franco di ringraziamenti alla LUNSA nelle diverse articolazioni il rettore che oggi non è potuto essere qui ma sostituito in modo splendido da Claudio Giannotti grazie al professor Iasevoli grazie a Nicoletta Rangone e a Mario Midiri che ci hanno aiutato a costruire questo evento che per me è un'occasione per imparare ulteriormente le tre relazioni dovevamo pensare così sono riuscite meglio di quanto le avessimo pensato delle tre rappresentanti di altissimo livello delle autorità amministrative indipendenti sono di in notevole livello ma anche di grande stimolo stimolo a ragionare ed andare avanti quindi oggi questa presentazione che ne segue altre si è caratterizzata in modo molto positivo a mio avviso già trago qualche conclusione ma non rubo il mestiere a Sandro Peino al presidente Peino sul focus come le autorità amministrative indipendenti sono già da tempo alle prese con il problema di questo ecosistema digitale è il termine e l'espressione che abbiamo usato per il laboratorio sull'ecosistema digitale di Astrid da diversi anni e abbiano tutti maturati l'idea che questo è un processo in corso in divenire che non può essere arrestato ma hanno anche molte difficoltà ad applicare gli strumenti tradizionali quindi interessantissima l'esperienza maturata da Conso per Banca d'Italia sulle Sandbox e l'Innovation Hub ma uno dice è un fenomeno recente l'intelligenza artificiale mi spiega il mio amico il professor Giuseppe Italiano dice guarda sono 50 anni che se ne se ne occupa e come disciplina della computer science dell'informatica la insegno da 30 anni ci sono state già due primavere gli anni 60 gli anni 80 90 che non hanno però visto l'estate e qui una dotta citazione ricorre forse ricomincio da tre è la volta che questo sistema di grandi innovazioni produrrà risultati quindi perché questo succede succede perché c'è la convergenza di alcune grandi traiettorie tecnologiche i big data sono esplosi sono esplosi perché c'è una modalità di raccolta sensori i nostri anzi i nostri iphone smartphone e computer c'è una raccolta di dati mostruosa e contemporaneamente c'è una capacità di supercalcolo abbiamo affrontato questo aspetto dei supercalcoli dei supercomputer in un recente volume della collana Passigli sempre di Astrid e cominciano ad esserci dimensioni di mercato ragguardevoli grazie a Massimo Massimo Doria che nel sua interessantissima relazione ha esordito dando una dimensione anche quantitativa avete visto il livello di crescita è esponenziale poi bisogna prendere tutto con le pinze perché quando dicate queste sono stime ma questa è una realtà questa dell'intelligenza artificiale che interagisce con altre rivoluzioni tecnologiche la robotica che probabilmente ci indurrà anche gli economisti appartengo a questa categoria avendo lavorato comunque molti anni in due autorità amministrative l'antitrust è un bel periodo e per vent'anni nell'autorità per le garanzie e comunicazioni beh noi dobbiamo capire che forse anche la strumentazione applicata finora nella lettura di queste dinamiche tecnologiche deve essere adattata a una situazione in cui non è un'onda ma è un insieme di onde quindi di traiettorie tecnologiche si vengono a sommare e lo stiamo studiando in un lavoro sull'impatto delle tecnologie digitali intelligenza artificiale robotica in primis sul mercato del lavoro ma questo è un altro discorso allora tre libri tutti molto apprezzati oggi sono arrivate due osservazioni diciamo simpaticamente critiche una da parte di Francesca dice ma avete 1800 pagine ma anche il tema del sandbox ha ragione ma nonostante la costruzione diciamo di questo lavoro come rappresentato da Filippo Donati e con Sandro Paino abbiamo veramente cercato un approccio non olistico ma molto esteso non ce la potremo mai fare e quindi dobbiamo smentire due previsioni di due autorissime figure una del Presidente Bassanini e un altro del Professor Ruffolo quando in altre presentazioni siamo detti bisognerà tornare tra cinque anni con un'altra pubblicazione più ampia probabilmente la scriverà diceva Ugo Ruffolo l'intelligenza artificiale no non tra cinque anni ma prima e quindi dobbiamo immaginare come andare avanti e non lo scriverà un sistema di intelligenza artificiale Ugo toccherà ancora a te e a tutti gli altri autori allora gli impatti gli impatti sono clamorosi sono sull'economia sono sul diritto sono sulla società quelli sul diritto beh insomma per quanto aggiorneremo con le sandbox per quanto aggiorneremo a questa particolare forma di intelligenza artificiale che è quella generativa qui intanto dobbiamo metterci d'accordo con il linguaggio chat CPT è soltanto una delle e anche commercialmente poi legata a una realtà qui stiamo parlando di large language models che rientrano appunto che sono questa intelligenza generale intelligenza artificiale generativa beh c'è stato detto del presidente e la sorella c'è stato sottolineato Donati da Filippo e da Mario Midiri beh il regolamento europeo già adesso l'amendamento se ricordo bene l'amendamento 601 del Parlamento europeo cerca di ricomprendere questo questi sistemi di intelligenza artificiale all'interno di un regolamento che altrimenti sarebbe manchevole ma questa rincorsa sarà continua non possiamo pensare che ci sarà un regolamento lo diceva Massimo Doria a un certo punto non possiamo pensare di fare la norma ed ecco lì siamo sistemati per x anni quindi c'è un problema di fine tuning ho usato proprio questa espressione di aggiornamento e c'è bisogno di un approccio che porti dalla regolazione a una co-regolazione mi permetto solo di dire che sia effettiva però co-regolazione perché tante volte abbiamo chiamato co-regolazione il presidente la sorella sa benissimo a cosa mi riferisco ed in realtà è stata un'autoregolazione che poi l'autorità amministrativa ha cercato diciamo di gestire di convogliare quindi una co-regolazione e non può che partire ex ante non a cosa che fa allora c'è una questione io non sono sono un economista l'ho già detto capisco abbastanza di diritto di antitrasti di regolazione però mi pongo e mi pongo una questione che è stata sollevata dal presidente e la sorella dando anche però qualche indicazione quindi ho guadagnato anche in termini di apprendimento che è un importantissimo target quando uno fa un seminario come si re come si coordinano e qual è il modo più efficace per coordinare le regolamentazioni verticali i silos cioè il codice europeo delle comunicazioni elettroniche la direttiva sui media audiovisivi lasciamo stare adesso quella direttiva del servizio commerciale postale dimitiamoci a queste due e questa produzione mi posso permettere di dire l'ho detto così anche al mio amico Roberto Viola che forse è un'iperproduzione da parte della commissione europea ne cito alcune anzi richiamo quelle che ha detto il presidente digital service act digital market act data act data governance act anzi vi devo invertire che una è norma l'altra è dei recondendo la direttiva sull'identità personale il regolamento sull'intelligenza artificiale e non è finita qui ce ne saranno altri di interventi specifici sulla sanità e quant'altro quindi come si coordinano questi due livelli uno verticale l'altro orizzontale credo che la questione meriti attenzione e lo dico perché quando mi sono posto la domanda ho detto forse sono io che non ho chiaro e invece parlando con alcuni amici avvocati e professori giuristi ho detto no no la questione esiste stiamo cercando di affrontare io mi augurerei che intanto non ci fosse una proliferazione di autorità Inghilterra sta andando per una proposta di UK ormai secondo Brexit una proposta di costituire un'autorità per l'intelligenza artificiale io mi preoccuperei essendo più gradualista forse pure minimalista mi preoccuperei che intanto fosse dal governo italiano affrontata la questione dell'indicazione del digital service coordinator che non può che essere questo non per ragioni di appartenenza perché non ne sono fuori da alcuni anni che l'autorità prega insieme a comunicazione cioè semplifichiamo perché poi ci sarebbe anche il problema di come le diverse istituzioni intervengono tu Mario citavi un caso in cui l'autorità la Bundeskarte è intervenuto utilizzando norme pravesi ma leggendole come una lesione alla concorrenza ecco queste geometrie variabili diventano pericolose per il mercato per gli operatori e alla fine stessa per l'efficacia dell'azione dell'autorità amministrativa indipendente perché poi il giudice amministrativo magari censura questa fuoriuscita chiudo dicendo che qui come economista il problema è abbiamo fatto questo grande lavoro su il diritto e intelligenza artificiale economia e intelligenza artificiale è complicatissimo forse probabilmente è ancora più complicato per cui non si può che affrontare per temi noi qui oggi abbiamo visto come nel campo della finanza consul per banca d'italia stiano agendo ed è molto interessante noi abbiamo fatto un lavoro il presidente Bassanini lo ricordava prima sui sistemi di pagamento alle prese con due rivoluzioni ma fondamentalmente intelligenza artificiale e machine learning e coordinato questo lavoro da Claudio anche da me ma insomma soprattutto da Claudio sarà una riflessione un contributo che daremo al dibattito ma gli impatti sono come segnalava Massimo Massimo Doria prima su TLC automodi sanità quindi ci sono molti altri settori in cui c'è questo impatto importante e significativo e probabilmente c'è anche necessità di una regolamentazione in questo caso specifica per alcuno di questi settori niente io non vorrei rubare altro tempo se non concludendo che quello che abbiamo visto sul case study qui faccio un minimo spot Claudio al nostro lavoro anche andando ad analizzare un settore particolare i sistemi di pagamento e le relazioni con il credito della clientela retail e la sola intelligenza artificiale abbiamo visto che il processo è un processo in corso questo anche vale per il futuro della televisione ma ne parleremo in altre circostanze auspicabilmente presto siamo in una fase di transizione e non si può dire ad oggi nonostante le tecnologie siano abbastanza chiari quali sono le tecnologie da applicare quali sono gli effetti le potenze non si può dire quale sarà l'assetto finale nel caso dei sistemi di pagamento sicuramente è cambiato il panorama con l'arrivo del techfin le fintech le neobanks quindi il quadro sicuramente è articolato ma qual è diciamo il punto di arrivo come termina in termini di assetti competitivi da qui a cinque anni il processo non è dato sapere almeno per ora e quindi in questo io sono in sintonia con quanto è stato detto ho concluso davvero da Mario da Massimo Doria ripetuto da ultimo da Mario una regolazione sì ma ben temperata perché l'esigenza di non frenare l'innovazione è un'esigenza assolutamente decisiva non limitare la competizione anche se gli assetti di mercato con l'ingresso delle piattaforme digitali questa modifica l'hanno già apportata in un senso oligopolistico in alcuni mercati quasi monopolistico o di forte dominanza ma al tempo stesso ma al tempo stesso garantire che gli interventi di natura regolamentare abbiano un'efficacia non limitata al mercato nazionale quindi la preoccupazione è qui lo diceva Roberto Viala di recente ma non per difendere l'azione dell'Unione Europea e perché necessariamente così e probabilmente il confine dell'Unione Europea non è sufficiente siamo di fronte a fenomeni e dimensioni internazionali sovranazionali per cui uno stilicidio di interventi legislativi nazionali può aumentare l'entropia e generare cacofonia vi ringrazio naturalmente il tema il tema della regolazione ben temperata cioè di come temperarla bene è un tema di grandissima complessità di grandissima delicatezza con una differenza Antonio rispetto al passato rispetto a qualche decennio fa e qualche decennio fa ci si poteva permettere ci si poteva permettere di attendere che un processo si assestasse per poi regolarlo oggi non è più possibile perché la velocità del cambiamento e la dimensione dell'impatto che può avere su su tutti gli aspetti delle attività umane è tale che non possiamo rinunciare a studiarlo anche se ancora in corso la sua evoluzione e non possono rinunciare le autorità competenti a cominciare a a ipotizzare qualche regolazione ben temperata che poi verrà aggiustata successivamente questa è una differenza molto molto importante come tu dicevi giustamente nel libro sulla televisione del futuro questo tema è emerso a un certo punto ci siamo detti ma allora non è meglio aspettare no ci sono molte cose da dire da capire e da pensare da proporre anche se sappiamo che c'è un processo in corso il cui esito può avere varie varie può andare in varie in varie direzioni questa è una differenza molto importante per chi come me ha cominciato a occuparsi di di regolazione tra l'altro per un lungo periodo 26 anni nella posizione di membro del Parlamento voglio dire in epoche lontane allora veramente era diverso oggi questo è un dato importante Nicoletta Rangone Nicoletta Rangone come sapete professoressa ordinario di diritto amministrativo qui alla LUNSA e che conclude il giro degli interventi potremmo dire dulcesi in fundo e dopo avremo le conclusioni del Presidente Paina grazie Presidente e niente mi porta a cominciare in un modo diverso sarò vi assicuro brevissima questo riferimento ad un modo di regolare che non può che cambiare di fronte ai mercati che sopravanzano i nostri processi decisionali siamo abituati a sponsorizzare la cost benefit analisi analisi di impatto le consultazioni come strumento per migliorare la qualità della regolazione che cosa hanno fatto hanno fatto a livello europeo hanno fatto sì che il regolamento il famoso regolamento sull'intelligenza artificiale più volte citato è in gestazione da due anni c'è stato un'analisi di impatto della regolazione che costa più di 150 pagine e in questi due anni il mondo è andato avanti tanto è vero che ha CPT adesso oggetto di una proposta di modifica della lista delle applicazioni ad alto rischio ma anche questo è stato detto io volevo fare qualche considerazione oggi spostando un pochino l'attenzione sull'intelligenza artificiale utilizzata nelle pubbliche amministrazioni dalle pubbliche amministrazioni per fare tante cose per fare il rule making pensiamo alle consultazioni pensiamo all'analisi dei commenti di massa e questo ha un impatto sulla posizione sulla voce delle imprese dei cittadini perché se viene ascoltato o meno quello che dico ovviamente è molto importante ma ancora più tocca più da vicino cittadini ed imprese quando l'intelligenza artificiale viene utilizzata per adjudication o per l'enforcement sono i controlli pensate all'agenzia delle entrate tanto per citare qualcuno qualche soggetto pubblico con cui tutti noi abbiamo a che fare ora l'uso di questa intelligenza artificiale dell'intelligenza artificiale in una qualche metodologia da parte nel settore pubblico è diffusissimo voglio semplicemente citare l'artificial intelligence watch del 2022 del joint research uno dei joint research center della commissione vede l'Italia al secondo posto per gli usi dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico e noi che cosa ne sappiamo sappiamo pochissimo sappiamo qualcosa perché è nascosto in circolari comunicati comunicati stampa notizie di stampa piani della performance ma chi li legge ora eppure questa esigenza cioè sapere conoscere la realtà sarebbe importante sarebbe importante per noi cittadini perché ovviamente se sappiamo possiamo attivare garanzie procedurali prima ancora che processuali è importante naturalmente anche per le pubbliche amministrazioni che possono mettere a confronto applicazioni pratiche problemi e trarre insegnamenti anche dagli esiti non voluti ovviamente sarebbe importante anche per i legislatori parlo al plurale perché non vi è dubbio come dicevamo che il mondo reale abbia superato la realtà e quindi la realtà è da conoscere e per conoscerla sarebbe meglio cominciare a mapparla per conoscere usi vantaggi e problemi ora questo è proprio l'obiettivo che ha mosso il gruppo di lavoro che è stato coinvolto da Astrid che ho avuto il grandissimo piacere di coordinare insieme a Barbara Marchetti e Edoardo Chiti e a cui hanno partecipato numerosi colleghi e colleghi che hanno poi elaborato contributi molto interessanti che trovate nel secondo dei volumi pubblicati dal mulino ora abbiamo lavorato per mossi da un'esigenza conoscitiva abbiamo ci siamo detti invitiamo invitiamo i soggetti tutti quelli che possiamo abbiamo invitato tutte le autorità indipendenti presenti oltre ad altre abbiamo parlato con alcune amministrazioni centrali abbiamo parlato con alcuni enti locali e sono che cosa è emerso sono uscite molte cose molto interessanti non vi preoccupate rinvio alla pubblicazione per approfondirle se siete curiosi ma vorrei soffermarmi su due punti che pongo sotto forma di interrogativi e cioè come assicurare conoscibilità e comprensibilità a cittadine di imprese che vengono in contatto con amministrazioni che usano l'intelligenza artificiale secondo punto come assicurare conoscibilità e comprensibilità alle amministrazioni che acquistano in outsourcing sistemi di intelligenza artificiale e sono tante ora ho esordito evidenziando che gli usi sono nascosti ma anche quando non lo sono perché sono pubblicati in gazzetta ufficiale o nei siti istituzionali ora io mi chiedo se questo tipo di trasparenza consenta veramente conoscenza e conoscibilità non voglio sottolineare al pubblico soprattutto ai relatori abbiamo qui Paino che viene dal Consiglio di Stato che il nostro Consiglio di Stato ci dice che conoscenza e conoscibilità e comprensibilità sono dei requisiti di licitabilità dell'uso dell'intelligenza artificiale ora faccio tre esempi molto rapidamente che sono poi gli unici in cui abbiamo interventi normativi ad oggi adottati che parlano di intelligenza artificiale il primo è un decreto del MEF del giugno del 2022 l'evasometro anonimizzato così chiamato dalla stampa già introdotto alla legge di bilancio del 2020 ora in modo altamente tecnico adempia quanto previsto dal GDPR e indica che non ci si può opporre al trattamento perché l'obiettivo è quello di interesse pubblico di prevenzione e contrasto dell'ivasione ora non spiega però nulla quanto a tecnologie utilizzate ragioni dell'utilizzo rischi connessi secondo esempio nel 2022 la Banca d'Italia pubblica un regolamento che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale per la gestione degli esposti è la prima amministrazione italiana a pubblicare un regolamento e quindi con grande trasparenza tra l'altro coniugando le garanzie imposte dal GDPR e anticipando quelle che verranno imposte con l'approvazione e il regolamento sull'intelligenza artificiale tanto è vero che è stata premiata qui in l'Umsa qualche mese fa come non buona ma anzi ottima pratica regolatoria ora però vorrei chiedermi possiamo dire che anche la pubblicazione di questo regolamento in gazzetta ufficiale e nel sito istituzionale consenta davvero conoscibilità e comprensibilità agli intermediari ma anche a chi presenta gli esposti che poi siamo noi cittadini cioè chi sa dell'esistenza di questo regolamento terzo e ultimo esempio il nuovo codice degli appalti prevede che ogni operatore economico leggo ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano cioè partecipi a una gara di appalto devi sapere che si usa l'intelligenza artificiale e vi è un obbligo di pubblicare nella sezione del sito amministrazione trasparente la soluzione tecnologica utilizzata e questo sufficiente per assicurare conoscibilità e comprensibilità ora perché non testare forme attraverso le quali assicurare che l'informazione raggiunga questi obiettivi tenendo anche conto del fatto che noi persone reali siamo abbiamo dei limiti cognitivi e quindi ormai è superata l'idea della trasparenza l'information disclosure che garantisce la tutela dei consumatori è stata i mercati finanziari hanno cominciato a superare questa idea trasformando i prospetti informativi sarebbe secondo me utile una agile regulation che potrebbe essere introdotta a livello di singola amministrazione o a livello centrale da rivedere progressivamente monitorando in modo continuo gli esiti testare questa idea di testare lo stesso can sanstein che è stato a capo dell'oaira e lì ha introdotto non soltanto la nudge regulation ma faceva l'oversight rivedeva le cost benefit analisi realizzate a livello federale oggi va in giro per il mondo promuovendo l'idea di testare che è più rapido testare controllare ritestare ancora è molto più rapido molto più efficiente perché non sperimentare senza aspettare l'approvazione del regolamento europeo tra l'altro che nasce già ambiguo perché impone la trasparenza per tutti gli utilizzi anche quelli a basso rischio però non si capisce nei confronti di chi perché parla di users allora la trasparenza nei confronti dell'amministrazione oppure come auspicabilmente dovrebbe essere nei confronti di cittadini e di imprese vengo al secondo punto rapidissimo l'outsourcing quando l'intelligenza artificiale non è il caso ovviamente di Banca d'Italia non è il caso di Constop che hanno competenze interne molto importante ma tutte le altre amministrazioni perlomeno quelle che abbiamo sentito noi nel gruppo di lavoro molte molte fanno appalti ora in questo caso qual è la sede per assicurare conoscenze e comprensibilità ovviamente il bando di gara è qui che l'amministrazione deve fissare le regole del gioco imponendo una gestione dei rischi limiti a utilizzi non etici audit periodici un monitoraggio continuo solo per fare qualche esempio questo però non è richiesto dal nuovo codice degli appalti pubblici che si limita ad imporre alle stazioni appaltanti agli enti concedenti di assicurare la disponibilità del codice sorgente e di introdurre negli atti di indizione di gara clausole volte ad assicurare scusate leggo ancora assistenza e manutenzione necessaria alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione ma chi valuta errori ed effetti indesiderati io spero non solo lo sviluppatore ora questo articolo andrebbe tra l'altro collegato con la disciplina del partenariato per l'innovazione che è poi la formula utilizzata per acquisire intelligenze artificiali sul mercato concludo dicendo che per assicurare comprensione e conoscibilità da parte dei funzionari pubblici che poi saranno chiamati a spiegare ai soggetti interessati e per la definizione di bandi e la gestione e il rapporto con i provider sono necessarie competenze e qui torniamo a quanto già detto l'acquisizione di expertise tecnica diffusa all'interno delle amministrazioni e la formazione dei funzionari non tecnici è fondamentale per assicurare che conoscenza e comprensibilità e anche per limitare i bias dell'intervento umano che è altro elemento che in base al quale è considerata legittimo l'uso di intelligenza artificiale the human in the loop perché l'intervento umano può essere affetto da bias bias dell'automazione o bias dell'avversione all'algoritmo ora anche il problema delle competenze è ben sottolineato nel rapporto Astrid a cui rinvio ringraziandovi per l'attenzione grazie grazie ma la quantità di appunti che ho appreso in questa mattinata per le cose estremamente interessanti e sono venute fuori dagli interventi da ultimo e prima ancora dalle relazioni credo che mi giustifichi la mia pigrizia nel non trasferirmi diciamo su quel palco lì per parlare quando devo fare delle conclusioni dico sempre che le conclusioni sono sempre difficili perché in realtà e qui lo sono difficili sono difficili in generale perché chi normalmente ha avuto la pazienza di arrivare alle conclusioni ha già ascoltato tante relazioni e quindi occorre non fare delle conclusioni una nuova relazione perché diciamo in questo modo la conclusione diventerebbero una sanzione che viene imposta sostanzialmente dico agli amici che sono rimasti ad ascoltare in secondo luogo qui è ancora più difficile trovare di tirar fuori delle conclusioni perché in realtà questo processo è totalmente in corso quindi l'idea di qualcuno che voglia concludere qualcosa a proposito dell'intelligenza artificiale diciamo è un'idea diciamo è un'idea che obiettivamente non sta nelle cose l'intelligenza artificiale si evolve il sistema cammina e quindi noi possiamo soltanto cercare di stare al passo in qualche modo col sistema quindi si tratta non di concludere ma di prendere le suggestioni che sono venute fuori dagli interventi e dalle redazioni per cercare di tirarne fuori diciamo sostanzialmente alcune indicazioni per un futuro prossimo un futuro diciamo anche operativo che ci attende vedo già nelle cose che da ultimo ha detto Nicoletta alcuni suggerimenti estremamente interessanti a cui per la verità anch'io pensavo che si dovesse arrivare da tempo mi pare che qui sono emerse due linee sostanzialmente all'interno dei discorsi che si sono fatti una linea che in qualche modo riguarda l'adattamento sostanzialmente diciamo delle situazioni attuali reali a questa attività che va cambiando e da questo punto di vista l'esperienza delle autorità diciamo è stata veramente importante e una linea invece più sullo sfondo forse meno accennata ma tuttavia estremamente importante che riguarda i cambiamenti che in sostanza sono già intervenuti nel nostro mondo e che di cui non si può non fare a meno di tenere in considerazione da questo punto di vista io credo che quindi la nostra giornata ha un duplice valore ci indica alcune cose concrete da fare per il futuro ma ci indica anche alcune prospettive diciamo di medio e lungo periodo che servono per tutti coloro che si troveranno diciamo a in qualche modo a incontrare diciamo il tema e il mondo dell'intelligenza artificiale vorrei cominciare quindi dalla prima parte dai suggerimenti da questa dimensione più concreta e questo è venuto dai da questi dagli interventi dalle tre relazioni fondamentali che sono tre autentici carotaggi che così richiamerei nel come dire fatti nel mondo io amo diciamo anche questa come dire utilizzare talvolta diciamo questa terminologia da opere pubbliche perché rende però estremamente concreto diciamo qui stiamo cercando di entrare nel concreto e quindi fare un'operazione di profondità e da questo punto di vista abbiamo visto tre esperienze estremamente interessanti l'esperienza che ci ha che ci ha ricordato diciamo il presidente la sorella che è un'esperienza diciamo che si che incrocia tra l'altro più elementi più amministrazioni più valori sostanzialmente in realtà diciamo così attraverso le cose che il presidente la sorella ci ha detto comprendiamo che in sostanza non è possibile un approccio diciamo come dire che non sia un approccio integrato per le questioni riguardanti e non solo fra ciò che riguarda tecnologia e cultura ma ciò che riguarda anche i diversi profili in cui diciamo l'azione umana si manifesta io non posso occuparmi delle cose di cui si occupa l'autorità preseduta dal presidente della sorella se non metto insieme profili tecnologici ma anche diciamo profili legati alla dimensione economica profili legati alla dimensione culturale alla dimensione della tutela dei diritti fondamentali ecco noi dobbiamo imparare a realizzare questo tipo di sintesi questo forse per i giuristi che vengono però almeno per un certo tipo di giuristi che vengono da una formazione come dire diciamo antica diventa un po' più difficile io ricordo che Vittorio Emanuele Orlando il padre del diritto pubblico italiano nella introduzione famosa sostanzialmente al suo trattato di diritto pubblico in qualche modo ricordava che il diritto pubblico era diventata scienza perché avessi un suo oggetto dei confini rispetto alla cameralistica rispetto alla sociologia rispetto agli studi storici è un proprio metodo ecco noi dobbiamo forse conservare il metodo ma in qualche modo abbattere i confini e questa è una indicazione che secondo me è estremamente utile per tutti coloro che fanno i giuristi e del resto un altro giurista a cui sono molto legato ero purtroppo non è più fra noi ed era Michele Taruffo sostanzialmente ha scritto più volte c'è una sua raccolta di scritti che si intitola Sui confini e nella sua introduzione dice ho sempre cercato i confini perché ho pensato che fosse interessante affascinante mettersi lì sostanzialmente sul limitare a guardare da una parte o dall'altra e via via che vivevo ho scoperto che questi confini non ci sono e questo è quello che in realtà sostanzialmente scopriamo anche noi questa è la prima la seconda indicazione che è venuta dall'intervento della dottoressa Medda è che è stato mi ha colpito molto questa insistenza sulla sandbox perché questa è in sostanza l'insistenza sulla sperimentazione perché la sandbox non è altro che uno spazio di sperimentazione ora non a caso diciamo della sandbox si parla a lungo nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale allora noi dobbiamo fare di questa sperimentazione un metodo un metodo che è anche un metodo che è stato detto da entrambi sia dalla professoressa Medda che anche dal dottor Dori un metodo dialogico un medico che in qualche modo ci consenta di sperimentare insieme ai soggetti fruitori che questo poi per chi dovrà regolare darà una chance in più perché in termini di conoscenza ma anche in termini di condivisibilità e accettabilità della regolazione e questa è un'indicazione estremamente importante le indicazioni estremamente importanti sono venute fuori anche dai interventi sostanzialmente del dottor Dori di Massimo Doria sostanzialmente che ci ha messo in guardia nei confronti dei rischi diciamo ma ci ha parlato anche delle opportunità che sostanzialmente dicono quando lui ci parlava di bias darkness eccetera ci metteva di fronte a questo mondo oscuro ci diceva elocava anche qualche rischio come quelli che ha ricordato l'amico Miriri diciamo a parlare di Elon Musk ecco da questo punto di vista però diciamo questa attività sostanzialmente se effettuata con questo spirito aiuterà sostanzialmente a avere diciamo regole meno come dire meno invasive ma nello stesso tempo più efficace questo è un dato importante allora dopo questo carotaggio che abbiamo fatto diciamo con le autorità di regolazione io penso che questa giornata ci proponga un altro tema e in questo mi riferisco subito alle parole diciamo di Nicoletta Rangone e cioè un secondo carotaggio ampio che dovremmo fare con le amministrazioni attive e non con le amministrazioni regolatori cioè quelle amministrazioni cioè che utilizzano e talvolta producono sostanzialmente diciamo i propri i propri producono sostanzialmente non ricorrendo la story ma in house i loro i loro diciamo i loro algoritmi e cercare di capire quali sono le garanzie che loro in qualche modo utilizzano qui siamo di fronte a uno sterminato numero di amministrazioni non a caso tu ricordavi che l'Italia è il secondo paese che utilizza il riferimento all'amministrazione finanziaria e al ministero dell'economia e delle finanze è enorme importantissimo io vorrei che qui venissero i rappresentanti del ministero dell'economia e delle finanze che ci spiegassero sostanzialmente diciamo come funzionano le loro cose come hanno prodotto i loro algoritmi diciamo quali sono le garanzie diciamo così di certificazione che si possono dare sulla qualità di questi algoritmi e lo stesso chiederei al ministero dell'istruzione diciamo che come è noto ha dato luogo a quei casi giurisprudenziali che poi hanno dato luogo appunto a quelle pronunce del consiglio di stato ricordate sempre da Nicoletta e lo chiederei al ministero dell'interno diciamo perché è anche notorio che in sostanza nell'utilizzazione per esempio le diverse prefetture nell'utilizzazione degli strumenti riguardanti la prevenzione giustamente la prevenzione dei rischi con riferimento alle manifestazioni usano anche strumenti di intelligenza artificiale di tipo predittivo sostanzialmente poi potremmo dedicare diciamo una stagione a chi si occupa come diciamo come come me come Ugo Ruffolo diciamo anche di diritto e di processo perché anche diciamo nel processo ci sono problemi di questo genere che potrebbero essere utilizzati però da questo punto di vista in sostanza diciamo io credo che sarebbe estremamente interessante una giornata in cui ci si oppongano queste cose Nicoletta ha posto un problema reale che oggi si porrà cioè ha ricordato quel provvedimento diciamo quel decreto diciamo attuativo sostanzialmente di una norma della legge diciamo della legge di bilancio del 2020 conforme alla direttiva europea e che in sostanza oscura sostanzialmente il diciamo il come dire la possibilità di accedere a quei strumenti che servono a quei strumenti diciamo informatici in particolare a quegli algoritmi che servono a preparare diciamo il plafondo sostanzialmente su cui l'amministrazione fino all'agenzia dell'entrata esercita i suoi controlli per io per esempio una delle cose che i problemi che mi ponevo questa è una roba che certamente è coerente anche con le direttive europee ma questa quando si trasferisce dalla dimensione diciamo amministrativa a quella giurisdizionale cioè alla dimensione del contenzioso tributario riuscirà a reggere se per esempio quei principi che sono stati elaborati dalla giurisprudenza del consiglio di stato per tutte le attività amministrative e quindi anche probabilmente per le attività amministrative che riguardano l'amministrazione finanziaria chiedono sostanzialmente una riconoscibilità e un'accessibilità ecco qui questo è una roba su cui nessuno si è ancora pronunciato ma questo è un tema su cui il rapporto tra amministrazione e processo è un rapporto fondamentale esiste una trasparenza amministrativa ma esiste una super trasparenza che deve essere realizzata all'interno della verifica giurisdizionale che è l'ultima verifica e poi come deve realizzare diciamo questo è importante perché la nostra noi diciamo oggi noi parliamo di atto amministrativo algoritmico e quindi sostanzialmente siamo i giudici amministrativi ma anche altri tributari diventano giudici dell'amministrazione algoritmica ma questi giudici potranno poi in un futuro anche abbastanza recente giudicare con l'algoritmo non soltanto giudicare l'algoritmo quindi abbiamo un campo fortissimo in cui si incrociano due funzioni dello Stato che in qualche modo utilizzeranno algoritmi diversi Ugo Ruffolo ci ha indicato molte cose ha anche delle proposte estremamente interessanti da avviare da questo punto di vista su cui non mi trattengo perché dovremmo fare una nuova ecco imporrei una nuova relazione sostanzialmente terza e ultima indicazione che cosa veramente possiamo trarre fuori dalle cose che oltre a queste proposte operative che mi è sembrato di dover avanzare oggi ma credo sostanzialmente alcune indicazioni diciamo importanti generali e questo è il secondo versante diciamo che dovremmo tenere presente la prima è questa il cambiamento è già iniziato ed è in corso quindi quest'idea di spaventarsi del cambiamento in corso o di fermarlo è un'idea che in qualche modo non ha senso ricorda quelle domande diciamo che si leggono per esempio in Sant'Agostino che viene fatta la domanda che cosa faceva Dio prima di creare il mondo e Sant'Agostino risponde è una domanda priva di senso perché diciamo il tempo è stato creato col mondo e quindi diciamo non ci vuole un problema visto se può fare il creatore prima che cominci il mondo stesso ecco noi dobbiamo porci una stessa idea cioè il nostro tipo di approccio non deve essere quello di chi in qualche modo ha paura di queste cose ma di chi cerca di dare un'anima a queste cose di conservare un'anima umana a queste cose quindi di garantire sostanzialmente che il progetto complessivo dell'intelligenza artificiale garantisca sempre quei valori che stanno all'interno è un'operazione difficile è un'operazione difficile per i regolatori è un'operazione difficile per i giuristi è un'operazione perché i giuristi arrivano sempre per ultimi da questa roba come succede sempre però arrivano anche con questo compito sostanzialmente di dare un qualche ordine a questa materia che è magmatica e da questo punto di vista c'è una grande responsabilità la seconda cosa la seconda cosa che mi viene in mente è questa che in realtà diciamo qui siamo di fronte a un progetto a un'esperienza e questo forse ci può consolare che se è completamente nuova per alcuni versi per altri versi è già vista e cioè siamo di fronte a una grande rivoluzione tecnologica diciamo così che provoca dei cambiamenti questo è una costante che si produce nella nostra storia le grandi rivoluzioni tecniche tecnologiche producono conseguenze economiche diciamo lo ricordava il suo intervento all'inizio a proposito della società diciamo che ha ricolse i primi alla fine dell'ottocento a New York sostanzialmente ma si ricorda insomma la creazione della macchina a vapore sostanzialmente ha cambiato il mondo e ha cambiato l'economia e la questione è semplice le grandi innovazioni tecnologiche cambiano hanno un riflesso economico questo riflesso economico sostanzialmente riguarda anche i poteri pubblici e l'amministrazione e noi lo sappiamo benissimo che ci occupiamo di amministrazione e di Stato io qui ho utilizzato una serie di locuzioni che noi abbiamo utilizzato a secondo degli effetti che o la tecnica o l'economia noi abbiamo parlato di Stato imprenditore per esempio abbiamo parlato di Stato sociale di Stato interventore di Stato salvatore dopo la crisi del 2006 oggi parliamo di Stato digitale diciamo c'è un recente libro di Luisa Torchia che usa che ha questo tipo di e ce n'è anche un altro curato da Margherita Ramaioli che dice si chiede se la giustizia amministrativa sia ormai una giustizia digitale tu cur diciamo anche questo ci dà il senso sostanzialmente di questi tipi di cambiamenti allora perché possiamo vivere questo cambiamento che cosa bisogna fare una l'abbiamo detta adottare sostanzialmente metodi sperimentali in secondo luogo diciamo renderci conto che questi cambiamenti è impossibile seguirli senza la realizzazione di un vero e proprio meticciato culturale questo è il secondo profilo che secondo me è importante è finita diciamo la come dire il tempo delle competenze separate e è avuto il tempo delle competenze integrate questo vale non solo nei rapporti fra giuristi e economisti ma va anche fra soggetti diciamo come dire che coltivano come dire le scienze dello spirito e soggetti che convivono la scienza dura cioè sostanzialmente le cose ecco dobbiamo mettere sempre più insieme queste conoscenze e questo è come dire è determinante c'è stato posto poi il problema ovviamente della darkness dell'oscurità diciamo sostanzialmente di queste ora qui mi sovviene un'indicazione che io ho ascoltato non è mia quindi è giusto io da Maria Rosaria Taddeo che è una filosofa diciamo un'allieva di Luciano Floride che insegna anche lei a Oxford e lei dice sempre che l'intelligenza artificiale non è intelligente sono intelligenti e anche intellegibili in qualche modo le procedure che portano alla formazione degli strumenti di intelligenza artificiale ecco da questo punto di vista questo costituisce per noi per tutti per i giuristi ma anche per tutti gli operatori un'indicazione importante non è diciamo il prodotto finito cioè il lato del prodotto finito sostanzialmente a cui noi dobbiamo avere luogo al prodotto al modo come viene posto in essere il prodotto quindi al modo come si inizia e al modo come si allena sostanzialmente l'algoritmo quello che ci deve essere messo la trasparenza di cui dobbiamo parlare riguarda non solo ovviamente il codice sorgente cioè che la parte iniziale ma anche gli obiettivi che sono stati dati e i tempi sono stati dati e poi sostanzialmente riguarda sostanzialmente le procedure di allenamento perché sappiamo che soprattutto gli algoritmi non di prima generazione sono algoritmi diciamo che sono continuamente allenati e che ora se noi abbiamo una certa conoscenza di queste cose possiamo avere un certo tipo di garanzia in ordine sostanzialmente ai risultati delle nostre cose l'ultima indicazione riguarda la regolazione che è stato il tema che trasversalmente diciamo ora qui io credo che possiamo dire sostanzialmente due cose noi abbiamo di fronte forme di self-regulation che sono state quelle diciamo forme di co-regulation che sono state ricordate e forme anche io credo che anche queste siano utili di hard regulation cioè di una regolazione che sostanzialmente viene dall'alto e dobbiamo ricordare che la proposta diciamo europea quella dell'aprile del 2021 che adesso va è una proposta di regolamento non è una proposta di direttiva diciamo è quindi la proposta di una disciplina che sarà immediatamente applicabile agli stati membri e nei lavori preparatori è ricordato che questo è stato scelto proprio per evitare una sorta di patchwork sostanzialmente dei paesi membri dell'Unione per evitare che ci fosse cioè tante piccole quello che è stato qualcuno ha ricordato come un esito che sarebbe diciamo mi pare è stato Antonio Perruccio ricordare un esito che sarebbe essiziale naturalmente la partita è estremamente difficile non solo per le ragioni che sono state poste adesso ma perché tutto sommato quella dell'iniziativa dell'Unione dell'Unione europea è un'iniziativa estremamente importante che riguarda tutti i paesi dell'Unione ma dovremo capire come funzionerà questa iniziativa nei confronti dei due altri grandi mondi sostanzialmente che sono vicini al nostro e cioè il mondo sostanzialmente delle big tech il mondo statunitense delle big tech dove invece la self regulation è stata almeno fino a adesso la regola fondamentale e il mondo del big state il mondo diciamo dell'esperienza asiatica soprattutto dell'esperienza cinese dove sostanzialmente la profilazione diciamo come dire generalizzata è stata l'altra regola quindi io mi permetto di citare questa piccola io ho utilizzato questa locuzione diciamo siamo di fronte a un'esperienza di big state un'altra di big tech quella dell'Europa è un tentativo di una big democracy c'è una grande democrazia che salva sostanzialmente i valori diciamo delle democrazie liberali e dei principi di diritto il problema è capire se questi valori riusciranno in qualche modo a circolare anche di fuori perché il mondo è ormai globale sostanzialmente e quindi però io sono moderatamente fiducioso sulla capacità che i buoni esempi possono in qualche modo avere una utilità concreta diciamo anche per le esperienze che sono fuori da chi li produce e con questo auspicio credo che possiamo concludere i nostri lavori grazie bene allora abbiamo terminato abbiamo sforato ma insomma dieci minuti è una cosa ragionevole ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti e anche tutti quelli che pazientemente hanno ascoltato speriamo che sia stato utile l'ascolto di quello che oggi è stato detto che comunque ha aperto una prospettiva su una parte determinante del futuro del mondo in cui viviamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti